Il mio intervento di oggi ovviamente è composto da due parti distinte. La prima, che spero di contenere in poche battute, è finalizzata ovviamente a richiamare integralmente la discussione già da me effettuata e quindi la requisitoria conclusiva nelle giornate del 23, 27 e 28 febbraio scorso. A quelle argomentazioni, e mi scuso subito con la Corte e con i presenti se dovessero esserci ripetizioni che potranno in qualche modo apparire ridondanti, dobbiamo aggiungere un'ulteriore integrazione istruttoria effettuata ai sensi dell'articolo 523,6 come richiamato dall'articolo 604. Intanto premettendo un argomento di metodo che ritengo sia particolarmente rilevante. Nella misura in cui abbiamo ascoltato l'intervento del colonnello Galasso in questa sede che ci ha già illustrato ampiamente la genesi investigativa di un'intercettazione tra presenti di straordinario rilievo, che è l'intercettazione del 17 gennaio 2021, introducendo alla vostra attenzione tutta una serie di elementi di valutazione ulteriori rispetto al contenuto di quella conversazione che è inutile richiamare in questa sede. Proprio perché l'esame del colonnello Galasso è stato lungo, articolato, approfondito, abbiamo certezze sull'identificazione, come raramente accade, l'attività di intercettazione è supportata proprio in relazione a quella specifica acquisizione da un servizio di videoripresa, diciamo che nel corso degli anni le tecniche investigative si sono affinate, possiamo dire così. E se le potenzialità di ascolto sono certamente aumentate, quella che è aumentata a dismisura è la sensibilità del pubblico ministero nel momento in cui si pone un problema di fondo di grande rilievo. Non è tanto importante il contenuto quanto rendere utilizzabile quel contenuto senza alcun tipo di incertezza. Perché la storia giudiziaria nazionale è piena di contenuti che purtroppo, dico, ancora oggi non vengono ricondotti con certezza a fatti, soggetti e vicende di straordinario rilievo. Non è questo il caso. Non è questo il caso perché il colonnello Galasso vi ha spiegato chi è adornato Francesco, vi ha spiegato che la sentenza definitiva che riguarda adornato Francesco già ci consente un inquadramento che elimina anche l'incertezza ovvia che ne può derivare in presenza di discorsi da parte dell'adornato che appartengono soltanto a pochissimi soggetti di indrangheta, di rango elevatissimo. Perché quando l'adornato diventa accompagnatore stabile di Pino Piromalli e quindi viene scelto in un ruolo che secondo quelle che sono le strutture interne all'andrangheta è di massima fiducia e non può che essere così. Nel momento in cui l'accompagnatore assiste anche indirettamente a tutta una serie di situazioni potenzialmente in grado di minare la tenuta strutturale dell'organizzazione diventa un soggetto che nelle gerarchie mafiose ha un livello elevatissimo. Nessun grande capo si fa accompagnare da persone che non siano espressione di quella vicinanza criminale e passatemi il termine anche ideologica che ovviamente si conquista sul campo e che è frutto di anni di frequentazioni senza sbalature. Queste sono le regole dell'andrangheta. Accanto all'adornato che va inquadrato nel modo che vi ho appena detto quindi certamente un soggetto a cui alcune confidenze sono state fatte che aveva le competenze per andare ad approfondire determinate tematiche e si colloca il nuovo ordine operativo della Cosca Piromalli che è rappresentato da Giuseppe Pino Ferraro. Oggi io cercherò in quella sorta di villa borghese piena di pini che viene fuori dal progressivo o meglio dai progressivi che sono stati analizzati di spiegare alla Corte anche alla luce di quella che è la trascrizione originale mi verrebbe da dire in lingua originale di quei contenuti straordinari quando si parla di Pino Piromalli quando c'è l'interlocuzione con Pino Ferraro e quando ma ve l'ho detto sin dall'inizio che noi siamo particolarmente fortunati il collaboratore di cui si discute è Franco Pino Giuseppe Ferraro non è un soggetto qualunque ci ha spiegato il colonnello Massimiliano Galasso e ovviamente la valutazione che noi oggi siamo chiamati a fare su di lui non può essere che una valutazione che trae i suoi elementi dimostrativi da quelle che sono le acquisizioni fino a questo momento disponibili e quindi è una storia criminale diversa da quella di Francesco Adornato abbiamo su Adornato una pronuncia definitiva su Ferraro una serie di acquisizioni che però non possono che assumere rilievo in questa sede sulla base della testimonianza dell'ufficiale di polizia giudiziaria che ha coordinato le attività che poi sfociano nell'operazione Iubris e ci dice è un soggetto di alto livello e soprattutto è un soggetto che trae il suo ruolo di alto livello dal fatto di essere il titolare guarda caso del frantoio all'interno del quale la conversazione in esame è stata registrata voglio andare subito prima di fare ulteriori considerazioni al dato sul quale la Corte è chiamata a valutare i progressivi come è noto sono tre il 652 il 656 il 657 del 17 gennaio 2021 sono di una chiarezza disarmante la qualità dell'audio è elevatissima i riferimenti che ha tornato fa nell'interlocuzione con il suo interlocutore potrebbero consentirmi di dirvi se lo schema a cui dobbiamo tendere nel momento in cui siamo chiamati a valutare il contenuto di un'intercettazione quello che ha individuato il legislatore ci ha più volte insegnato la Suprema Corte ho davvero poco da dirvi abbiamo certezza sui soggetti intercettati abbiamo certezze sui ruoli del propalante principale che ha adornato Francesco abbiamo certezza del luogo in cui si svolge la conversazione abbiamo una serie di certezze che si traggono dal contenuto della conversazione che veramente ci portano con tranquillità ad affermare a ragione la Suprema Corte quando dice l'intercettazione non è una chiamata irreità e incoerreità è una prova diretta quando presenta determinate caratteristiche o indiretta quando ne presenta altre ma certamente è prova e se è prova è enormemente più di un semplice riscontro che come vi ho detto nel corso della requisitoria è profilo sempre da considerare perché l'essere prova non esclude anche il fatto di essere riscontro ad alcuni fini la premessa dell'intercettazione io tenderei a superarla c'è una sorta di autopresentazione dell'adornato che addirittura aveva un rango così alto questo Galasso non ve lo ha detto ma nella trascrizione c'è aveva un rango così alto all'interno della cosca Piromalli da avere non soltanto un doppio stipendio per l'attività apparentemente lecita e per quella puramente criminale ma addirittura era accompagnato da un autista dice quando andava via l'autista cioè lui stesso lui stesso è autista di Pino Piromalli ma è collocato talmente in altro guardate come plasticamente si disegna la struttura dell'organizzazione a sua volta aveva un rango talmente alto che quando il trasportato era lui beneficiava di quelle che sono ovviamente le dinamiche interne all'andrangheta partia con l'autista quindi si autopresenta certamente nell'ottica di chi sta interloquendo su Pino Piromalli o comunque voglio dire ha necessità di interloquire sul grande capo la cui scarcerazione è così attesa perché deve sistemare le cose perché effettivamente le cose vanno bene ma non vanno bene come dovrebbero in assenza di un grande capo e questo non può che confortare chi svolge un certo tipo di lavoro nel momento in cui ha sempre sostenuto che decapitare le organizzazioni criminali di tipo mafioso provoca effetti destabilizzanti provoca effetti ovviamente demolitori all'interno della stessa struttura per inquadrare ancor meglio la sua vicinanza ai vertici della cosca Piromalli richiama la struttura familiare richiama Pino richiama Umedicu Vidicu Picciulu e Umedico mi scuseranno quelli che non comprendono bene la lingua originale ma ha ragione chi sostiene che in determinati passaggi solo utilizzando il loro linguaggio siamo in grado di comprendere fino in fondo i loro significati e la lingua originale dell'andrangheta nel mondo è il dialetto calabrese nelle sue diciamo varie versioni picciolo studiava a Roma chiede chi si laurea Umedico iddo non era Pino Upicciulu dice Giuseppe no Upicciulu e Umedico vi ha detto Galasso e non lo ripeto di chi stiamo parlando e non vi ripeto che effettivamente il medico è del 48 ed Upicciulu Pino edo 45 perché vedete non è banale introdurre all'attenzione del proprio interlocutore anche questi riferimenti e se andrete a rileggere alcune dichiarazioni dei collaboratori di giustizia già valorizzati in primo grado troverete una costante il collaboratore di giustizia che oltre ad aver avuto rapporti criminali ha avuto rapporti anche di tipo familiare con le componenti apicali dell'andrangheta è sempre portato a richiamare prima di quelli che sono gli elementi tipicamente riferibili all'attività di andranghetista vicende di tipo familiare e anche qui adornato utilizza lo stesso schema e lo fa intrattenendosi per un ben po' perché probabilmente percepisce in maniera distorta che il suo interlocutore in relazione a determinate tematiche ha bisogno di sapere ecco da operativo di vertice come ci dice Galasso Giuseppe Ferraro dice ma quando lo scarcerano non è che torna fuori una figura vuota perché a noi serve voglio dire tutt'altro e adornato lo tranquillizza è del 45 acqua ha 76 anni siamo nel 2021 ma vedi che il cervello è lucidissimo vedi che è assolutamente operativo vedi voglio dire che torna a essere quello che è sempre stato quindi non cominciamo a fantasticare che viene fuori un quasi ottantenne e che magari è arrivato il momento di soppiantarlo con altre figure ecco perché la straordinaria portata di un'intercettazione che solo a un certo punto introduce i riferimenti che assumono più rilievo in questo processo come effettivamente voglio dire quando andavamo a scuola ci hanno insegnato e ci hanno detto non arrivare però al cuore del tema senza aver premesso una serie di cose perché voglio dire l'insegnante che ti valuta potrebbe non capire fino in fondo il tuo pensiero grazie Giuseppe è tornato devo dirlo in maniera diretta che verosimilmente voglio dire ha fatto le scuole quando le scuole insegnavano anche voglio dire come si doveva strutturare il pensiero nel momento in cui gli argomenti importanti dovevano rimanere fissi nella mente di chi era chiamato a recepirli straordinario premetto quello che sono io premetto quello che sono i piromalli premetto di sapere tantissime cose non c'è bisogno che io ti dica che sono un condannato definitivo ma ti dico anche voglio dire che la mia vicinanza a Pino piromalli alla sua famiglia oggi mi pone diciamo in una condizione in cui qualche riflessione la sto facendo voglio dire visto che ti sto dicendo che Pino è operativo è lucido e il cervello gli funziona benissimo come sempre è stato perché Pino non esce perché noi abbiamo bisogno di Pino tutti hanno bisogno di Pino voi nuovi operativi avete bisogno di un grande capo perché siamo una potenza criminale e non possiamo andare in ordine sparso perché ci sono questioni da risolvere e perché la sua presenza è assolutamente necessaria guardate a un certo punto Giuseppe Ferraro dice questo penso giusto dice dopo avergli dopo aver apprezzato tutta l'introduzione che fa giusto penso che calavutempu sistemi i cosi no? giusto penso che ce l'abbia il tempo di sistemare le cose no? e l'altro gli risponde davivamu davimum alleggerutu c'eravamo c'eravamo alleggeriti anche su questo galasso non si è soffermato ma anche questo è un contenuto di grande peso perché nel giurgo tipicamente mafioso se a colui il quale ti dice hai il tempo di sistemare le cose secondo te visto che ha 76 anni il soggetto come adornato risponde implicitamente sì e aggiunge c'eravamo c'eravamo alleggeriti dove Pino fosse stato già in libertà purtroppo è un linguaggio tipicamente criminale di colui il quale dice guarda che al nostro interno ci sono situazioni di cui ci dobbiamo alleggerire perché sono quelle situazioni che appesantiscono la gestione di una delle principali articolazioni dell'andrangheta e certamente solo un grande capo sa individuare e attuare a tal fine l'eliminazione dei rami secchi l'eliminazione delle zavorre l'eliminazione di tutte e dico io anche fisica ed evidentemente fisica di tutti coloro i quali sono disallineati rispetto a una certa linea di comando il problema è che non esce dice Francesco e non esce voglio dire e questo è il mio pensiero ma mi sono confrontato anche con un avvocato e perché probabilmente caro Pino Ferraro tu i giornali non li stai leggendo con attenzione c'è una situazione grande che lo riguarda in cui lui è coinvolto e ti dico chi stuccai che io fosse stato Ionico avrebbe detto io io dai uno presentimento qualche avvocato mi disse che no ci dissi io avvocato avvi con bene udici di che no però per me l'inghippo chiss chi stuavi otto anni cavi aissi di fora penso penso che vogliono tirare la corda dice vogliono tirare la corda perché è la cosa che ha rotto i coglioni sai qual è Pino ti dico questa cosa qua io ho un presentimento qualche avvocato mi ha detto di no gli ho detto io avvocato a voi conviene dire di no però per me l'inghippo questo è da otto anni che dovrebbe essere fuori immaginatevi un discorso che si ferma qua e certamente oggi saremmo stati diciamo in una difficoltà ben diversa nel dire ma di che sta parlato e invece non si ferma qua perché a questo accenno Pino Ferraro risponde è come per dire ciccio adorato cioè ho capito i tuoi presentimenti e le tue valutazioni e le lucubrazioni sentimentali che fai visto che appartieni a una generazione diversa dalla mia ma non ho capito niente e quello continua a spiegare vedi che in carcere ha preso probabilmente delle sanzioni ci sarà stato un rapporto per il 41 bis gli ha detto che non si piega e non si rompe dice ma una parola gli ha detto non è chissà che cosa ha fatto non è che ha ammazzato qualcuno e glielo dice proprio con grande chiarezza non è che gli ha sputato in faccia gli ha detto una parola gli ha detto che non si piega e non si rompe gli ha detto una cosa gli ho detto io e qui torna e non può essere così all'interlocuzione che adornato ha avuto con l'avvocato che gli ha detto no adornato lei è fuori strada purtroppo i rimandi e le incidentali sono tantissime in questa conversazione gli ho detto io vedete che qua c'è questo fatto qua gli dice adornato dice adornato parlando con Giuseppe Ferraro richiamando le sue perplessità rispetto a quello che è il fatto per il quale Pino non esce e perché il fatto è quello di cui ci occupiamo in questo processo perché un attimo dopo dopo un rumore di mani che battono è sempre Francesco adornato a dire chistu che già du 90 covava è mia per me detto tra me e te e qui inizia il cuore della conversazione si uprimo che ti stai dicendo sta sta cosa che non la vorrei nemmeno dire ma ti dico motivo ti dico il motivo per cui Pino Piromalli non esce perché c'è questo fatto qua e il 90 non è un anno banale attenzione perché in questo processo contrariamente a quello che si è ricostruito in altre sedi perché questo processo ha una caratteristica ben precisa estende il periodo di valutazione già ampiamente ma non completamente perché ovviamente nelle sentenze emesse da altre autorità giudiziarie in Sicilia ed in Toscana voi avete tantissimi elementi di valutazione nel corso delle mie repliche io vi richiamerò gli elementi da cui noi contrariamente a quello che sostengono le difese oggi siamo obbligati a partire salvo giudizi di revisione che non mi risulta ma di fronte alla sentenza definitiva il fatto non può lasciare spazio all'opinione salvo il giudizio di revisione lo diremo dopo dicevo questo processo estende estende in avanti e estende anche in relazione ad accadimenti passati la lettura di un periodo drammatico della nostra storia che consente di completare anche tutta una serie di valutazioni come avete visto nel corso della lunga integrazione istruttoria su dinamiche che vanno oltre la componente siciliana perché una caratteristica di fondo chiara e assolutamente non contestabile che voi ricavate la lettura delle sentenze emesse a Caltanissetta e Palermo è quella di essere fortemente incentrate su quelle che sono le dinamiche proprie della componente siciliana indipendentemente poi dagli innesti negli ultimi anni di valutazioni anche su apporti dichiarativi di collaboratori calabresi su cui ci intratterremo Villani e lo giudice in particolare quando un uomo come Adornato Francesco indipendentemente da quello che racconta la stampa e qui la disattenzione investigativa la disattenzione investigativa per noi investigativa giornalistica informativa per noi è di grandissimo aiuto e sottolineo disattenzione giornalistica e di grandissimo aiuto nella misura in cui nessuna ricostruzione giornalistica a cui Adornato può aver fatto accesso sofferma le ricostruzioni che vengono rese pubbliche su un anno cruciale che è il 1990 che è l'anno immediatamente successivo perché siamo a fine 89 con il crollo del muro di Berlino diciamo che gli effetti della venuta meno dei blocchi contrapposti in realtà si verificano e si percepiscono in tutta la loro portata solo nel 90 e il 90 ecco qui quale grande contributo ci danno le acquisizioni fatte in questa sede si inserisce tutta la dinamica criminale che ruota attorno a falange armata al ruolo dei papalia all'omicidio di Umberto Mormile e alla nascita di un progetto criminale di cui ci parla Schettini che poi viene condiviso tra Andrangheta e Cosa Nostra il 90 e anche nella sua trascrizione originale quindi corretta era la trascrizione traduzione dei Carabinieri non si parla dal 90 no qui si dice du 90 dal 1990 quante cose sa Adornato che in pochi sanno se è in grado di indicare con certezza un anno che ha un rilievo enorme nella nostra ricostruzione salvo al voler sostenere che questa sua convinzione si sia formata andando a leggere notizie di questo tipo che non ci sono perché in tutte le notizie riportate da testate di varia estrazione 92 93 raramente 91 93 praticamente mai 91 94 è assolutamente da escludere 90 94 tranne che nelle parole di Giuseppe Graviano quando nel corso del suo esame in primo grado dice seccamente caro pubblico ministero vedi che questi progetti risalgono a parecchi anni prima rispetto a quello voglio dire che ancora oggi viene raccontato il 90 ti dico motivo non l'ho mai detto a nessuno e inizia intanto vorrei per farvi capire perché qui abbiamo diciamo tre stadi di conoscenza che ci vengono forniti da questa intercettazione il primo stadio è il vissuto di Adornato il secondo stadio è quello che Adornato riferisce in relazione alle scelte che le componenti apicali di Indrangheta hanno fatto il terzo stadio è il commento alla dichiarazione di Franco Pino cercherò ovviamente illustrando vi prometto brevemente questi contenuti di dire di volta in volta a quale stadio apparteniamo e quali sono le chiavi di lettura intanto qui siamo chiaramente in presenza di un racconto che ancora Franco Pino non lo richiama in alcun modo lui sta raccontando quello che sa e sta raccontando quello che sa in relazione alla figura di Pino Piromalli che non esce e ti dico il motivo per cui non esce ti dico io il motivo per cui non esce non te lo dice Franco Pino attenzione attenzione perché non vorrei che i troppi Pini poi voglio dire ci portino fuori strada ti dico un motivo Pino e Compagnia Bella inizia a dire e Compagnia Bella li hanno messi li hanno messi all'epoca nella commissione per le stragi di Stato e questo è il racconto diretto che adornato fa per quello che sa per essere stato un uomo di Pino Piromalli e assieme a Testuni Testuni cindifuna a Ionica ci furono tanti commissioni che poi ce n'è stata una nella Ionica ci sono state tante commissioni andate a vedere che cosa dice Pasquale Tripodoro quando Pasquale Tripodoro che appartiene e torniamo alla mafia delle tre province alla linea Ionica dice di essere stato convocato a Gioioso Ioni per discutere di questi argomenti ce n'è stata una nella Ionica ci sono state tante commissioni Pasquale Tripodoro che trovate negli atti che vi hanno prodotto stamattina gli avvocati Stajano e Contestabile già ampiamente richiamati in primo grado perché voglio dire il tema accessorio del processo Galassia è a tutti noto quando si celebrava il processo Galassia per fortuna mia mi trovavo a lavorare nel distretto di Catanzaro quindi lo conosco bene e vi dico che leggendo quel capo di imputazione voi ricaverete immediatamente una certezza Galassia è la preistoria ma non la preistoria che ci raccontano a scuola perché abbiamo tracce dell'uomo preistorico ma è la preistoria voglio dire che noi riusciamo a ricavare perché per forza di cose siamo anche chiamati diciamo dal punto di vista scientifico a fare ricerche a ritroso la preistoria di cui non abbiamo tracce ma voi ve li immaginate scusami dammi qua e perdonatemi se introduco ora questo riferimento un capo di imputazione formulato in questi termini grazie avvocato per averle messi in ordine queste è veramente un grande assolutamente non lo so che io scherzo sempre 47 la pagina capo 108 gli imputati sono morabito giuseppe utile a dritto pelle antonio il vertice del crimine de stefano giuseppe il capo assoluto del mandamento di reggio calabria tegano pasquale uomo a lui legatissimo muto franco che è un muto di cui all'intercettazione no non è un muto vede che è un pino perna francesco ne trovate ampie tracce nella sentenza di primo grado sappiamo qual è il suo ruolo in provincia di cosenza pino franco il nostro pino franco mancuso luigi pesce antonino il nostro nino pesce rugolo domenico e arcinoto è richiamato nella sentenza franco coco trovato non capisco perché scrivono cocco si chiama franco trovato detto cocco cioè divento non in quest'epoca in epoca successiva umili arturi c'è il cognome il soprannome diventa parte del cognome umili arturi è l'umili arturi che richiamano che richiamano come collaboratore che riferisce del sayonara e che è trovata nella sentenza di primo grado permettetevi di leggervi come è impostato questo capo di imputazione intanto i capi assoluti dell'andrangheta qui stiamo parlando per quanto riguarda la componente reggina e vibonese dei capi assoluti dell'andrangheta rispondono di concorso esterno perché pur non essendo organitamente inseriti nelle associazioni mafiose concorrevano dall'esterno mediante l'adozione di comportamenti idonei sotto il profilo causale al mantenimento e rafforzamento dei vincoli associativi delle singole articolazioni cioè siamo alla preistoria rispetto all'andrangheta unitaria io non ho nulla contro le sentenze definitive anzi ho sempre detto a tutti quelli che lavorano con me che bisogna partire dalle sentenze definitive perché il nostro metodo deve essere metodo scientifico e cioè parti da quello che è stato già accertato e vai a verificare che cosa manca certamente voglio dire nel processo Galassia si parla di tematiche che sfiorano i nostri temi il nostro tema di prova principale e quindi degli incontri del sayonara del fatto che l'andrangheta abbia detto sì ma e abbia detto no però vi prego di considerare che il processo Galassia parte da queste premesse cioè i capi assoluti concorrono dall'esterno con altre articolazioni di indrangheta e se questo voglio dire è il punto di partenza alla luce di quello che invece il materiale nelle vostre disposizioni è pari a zero che poi ci siano stati voglio dire decine e decine di obiter dictum su questa vicenda perché ogni volta che deponevano i collaboratori di giustizia che avevano vissuto direttamente o indirettamente le decisioni del sayonara veniva fuori in riferimento alle stragi di stato è ampiamente documentato in primo grado è ampiamente argomentato dalla corte d'assise di reggio calabria perché anche noi siamo partiti da là è evidente quindi la produzione di oggi rende soltanto più agevole consultare quegli altri e dicevo ti dico un motivo quindi torniamo ai personaggi che ci interessano di più in questa sede a quelli di cui parla lo stesso Franco Pino dice ti dico un motivo li hanno messi su li hanno messi io non voglio assolutamente soffermarmi più di tanto ma certamente mi pare evidente qual è il senso da attribuire a questo a questo passaggio grande carisma criminale di Pino Piromalli Nino Pesce e Luigi Mancuso ma qualcuno li ha messi e se qualcuno li ha messi certamente non può stare sotto di loro che questa voglio dire è l'unica possibile chiave di lettura da dare li hanno messi all'epoca nella commissione per le stragi di stato insieme a Testuni ci fu una Antaionica tante commissioni poi si ma tu voglio dire una cosa loro sono stati tre per quanto riguarda K a Terrenica dico io però però e qui c'è un primo cambio di chiave di lettura da dare ai contenuti però se questo è vero se questo è avveduto se questo io so per essere stato per molti anni un soggetto di vertice della cosca Piromalli perché così in sostanza mi si deve considerare se ero un uomo di strettissima fiducia di Pino quindi se questo è accaduto c'è un però c'è un però che potrebbe in qualche modo alleggerire la posizione di Pino e quindi è ingiustificato ascoltate voglio dire quant'è raffinato il pensiero di Ciccio Adornato è ingiustificato il fatto che loro stiano tenendo dentro Pino Piromalli quando l'unico elemento di conoscenza che hanno dice che Pino quel giorno a Sayonara non c'era ecco il senso del però però per quanto riguarda Pino quando è uscito pentito Franco Pino come introduce il riferimento a Franco Pino e quindi perdonatemi ancora una volta davvero tutti io sono tizio io ho avuto un certo ruolo è inutile che ti racconto che legami ho con la cosca Piromalli io ti dico che c'è bisogno di Pino che Pino deve uscire dal cervello lucido e deve alleggerire un sacco di cose ma non esce non esce io un presentimento non esce perché vuol dire Pino faceva parte della commissione stragi e ha deliberato l'adesione dell'andrangheta a quella stagione perché questo io lo so e te lo racconto anzi sei il primo a cui lo racconto e ti dico che c'erano più commissioni e ti dico che quelle commissioni avevano proprio questo specifico oggetto e ti dico che hanno votato che per quanto riguarda la Tirrenica erano tre erano lui erano Nino Testuni e lui Gimancuso come ricaveremo da qui a un secondo però la magistratura le forze dell'ordine in questo momento sono in possesso di quello che gli racconta il collaboratore Pino e il collaboratore Pino è vero che dice che Nino Pesce rappresentava Pino Piromalli è vero che dice che i grandi capi dell'andrangheta di Renica hanno deciso di aderire alla stagione stragista perché poi vi invito a rileggere quello che ha detto Franco Pino perché qui voglio dire negli argomenti difensivi che già emergono durante l'escussione del colonnello Galasso è come se Franco Pino avesse detto che l'andrangheta non ha aderito guardate che Franco Pino ha detto che l'andrangheta ha aderito e ha detto proprio che Nino Pesce rappresentando Pino Piromalli ha imposto una decisione che Luigi Mancuso ha accettato a malincuore attenzione questo dice Pino perché se vogliamo ragionare dobbiamo ragionare sui dati effettivi reali non su quelli voglio dire che ognuno di noi spera di poter trasformare da opinione a fatto questo dice Pino però dice nonostante Pino sappia attento gli dice caro Giuseppe Ferrero che Pino dice che Franco Pino dice che il nostro Pino Piromalli non c'era e questo potrebbe essere un elemento di vantaggio per Pino Piromalli che cosa gli dice ecco la chiave di lettura che io ho cercato di evidenziare nel corso dell'escussione di Galasso quando parla del contenuto che proviene dal collaboratore introduce il suo pensiero dicendo gli dice cioè il collaboratore gli dice dice alla magistratura e alle forze dell'ordine e così è qua gli dice che nella commissione che doveva che hanno deciso di avallare la strage di Stato con i siciliani attenzione lo ribadisce che hanno deciso di avallare la strage di Stato con i siciliani nessun dubbio né diretto né nell'analisi che fa delle dichiarazioni di Franco Pino Pino Piromalli non c'era ma che lo avrebbe rappresentato Nino Testuni è stato a suo posto Nino Testuni che ha risposto anche per lui e qui c'è la frase che secondo me chiarisce fino in fondo anche questa in lingua originale proprio quale deve essere il significato da attribuire al contributo dichiarativo di Adornato Francesco guarda come tu dico certi voti guarda come tu dico certi voti aggiungo io a fortuna vozi a che c'è un collaboratore di giustizia che dice che Pino Piromalli non c'era che non fa altro che confermare che non solo Pino Piromalli è stato nella commissione che è cosa diversa dalla riunione del Sayonara in cui si comunica l'esito del lavoro della commissione perché la commissione è formata da tre e non da trenta che erano i presenti quindi quando Luigi Mancuso e questo lo dicono i collaboratori di giustizia convoca perché il Sayonara è casa sua i vertici dell'Andrangheta calabrese nelle sue articolazioni di prima e seconda fascia perché ove li avesse convocati tutti diciamo ci voleva probabilmente tutta la provincia di Vimbo ospitarli che come sapete in quegli anni è un'estensione del mandamento di Renico ed è sempre stata un'estensione del mandamento di Renico come risulta dalle decine di sentenze del Tribunale della Corte d'Assise di Palmi nel momento in cui Mancuso prima di essere processati a Vimbo Valencia sono stati processati a Palmi per essere parte del mandamento di Renico ed essere articolazione operativa principalmente dei piromagli sentenze in atti che non vi cito nuovamente ma che sono state richiamate già varie volte anche nel corso della requisitoria guarda come tu dico che ha certi voti a fortuna aggiungo io che non si dica che per quanto riguarda lui no siccome c'è un articolo maledetto chi sto articolo maledetto Pino che trova spazio stavolta Pino è il suo interlocutore se voi ascoltate l'audio avrete la certezza di un modo di pronunciare lo stesso termine lo stesso nome Pino che è totalmente diverso dal punto di vista proprio dell'inflessione del propalante quando parla di Pino Piro Malle dice Pino la voce sale perché ovviamente quando invece si rivolge intercalando al suo interlocutore è come se gli dicesse capiscisti Pino verso il basso quando invece parla del collaboratore Pino l'inflessione tra lo schifato e il distaccato perché ovviamente essendo un collaboratore di giustizia chi incirisse Pino ascoltate l'audio e ricaverete questo tipo di di conclusione chi sto articolo maledetto Pino tu tu che stai parlando con me che trova spazio per farsi le ragioni di uno magistrato beh tecnicamente da questo punto di vista è un po' impreparato devo dire la verità adornato ma questa è la percezione che all'interno dell'andrangheta si ha e prosegue st'articolo che non è che ne sciù oggi già c'era durante prima da stragi i carabinieri trascrivono delle stragi ma ho ascoltato il dato vocale ed è correttamente trascritto dal perito qui c'è scritto da stragi della strage non delle stragi e il della strage visto che stiamo parlando di commissione calabrese visto che stiamo parlando di decisioni assunte da Pino Piromalli Nino Pesce e Luigi Mancuso da stragi è la nostra strage e cioè il duplice omicidio questo articolo qua non è che è uscito oggi c'era durante prima della strage sì ma con l'antimafia raddoppiao e sì dice il 41 bis c'era anche prima che un magistrato avendo degli indizi sufficienti per libero convincimento un dipote condannare non è proprio così e torna a introdurre il suo pensiero mutuato da quanto Franco Pino dice rispetto all'assenza all'assenza di Pino Piromalli al Sayonara quindi attenzione Pino Piromalli è dentro la commissione che decide l'adesione alla strategia stragista c'è un articolo maledetto questo articolo preesisteva ai fatti di cui stiamo parlando e a quei fatti che sono stati consumati anche qui per effetto della decisione assunta da quella commissione ma era assente al Sayonara io vorrei che fosse chiaro che essere assente al Sayonara significa che era assente esclusivamente alla riunione non ai lavori della commissione ma alla riunione in cui a lavori conclusi si comunica ai vertici dell'andrangheta regina fino a un certo punto perché l'andrangheta regina in cui io includo in quegli anni anche Luigi Mancuso per effetto delle sentenze che vi ho richiamato prima perché la provincia di Vipo Valencia è articolazione pacificamente accertata in sede processuale dell'andrangheta regina in quegli anni qui non discutiamo delle evoluzioni successive era presente all'interno della commissione visto che lo rappresentava Nino Pesce io dico era il presidente della commissione per quello che ci dicono i tantissimi collaboratori di giustizia che parlano proprio di Pino Piromalli in quegli anni quando è stato necessario perché la storia insegna che le riunioni allargate sono rischiosissime e la storia insegna voglio dire che gli spioni in Calabria sono tanti non è che devo richiamare alla vostra mente quello che è successo nell'ottobre del 69 e quindi sostanzialmente partecipare alla riunione del Sayonara per un grande capo come Pino Piromalli è assolutamente inutile è un rischio inutile mi rappresenti tu Nino tanto che gli dobbiamo dire non è che dobbiamo discutere perché se dovessimo discutere io verrei pure ma non dobbiamo discutere c'è Luigi che si è attivato il Sayonara fa capo alla sua famiglia ha convocato tutti quelli che doveva convocare verranno qui gli raccontiamo quello che gli dobbiamo raccontare che la decisione è presa sentiremo tutta una serie di rimbrotti e di opinioni diverse ma la decisione è presa non è che dobbiamo discutere perché se dovessimo discutere io verrei pure ma non dobbiamo discutere c'è Luigi che si è attivato il Sayonara fa capo alla sua famiglia ha convocato tutti quelli che doveva convocare verranno qui gli raccontiamo quello che gli dobbiamo raccontare che la decisione è presa sentiremo tutta una serie di rimbrotti e di opinioni diverse ma la decisione è presa e noi prenderemo parte a quello che è il progetto criminale che condividiamo con i siciliani solo a quella fase di comunicazione di una decisione presa Pino Piromalli non c'è e perché vi dico questo perché sempre il famoso però che introduce adornato quando voglio dire deve introdurre all'attenzione del suo interlocutore il suo pensiero dice però Pino Davi sempre in attenuanti ma attenuante attenuante cioè il fatto esiste ma è attenuato che cosa ben diversa dal dire Pino non ha partecipato Pino non ha deliberato Pino non ha voluto no è esattamente il contrario ha un attenuante nella mente di adornato per chi non c'è usimentuno a fianco di siciliani quando hanno deciso di mettersi a fianco dei siciliani non c'è no no è stato proprio lui a decidere è stato proprio lui a decidere questo lo ricavate dalle dichiarazioni proprio di Franco Pino quando dice la decisione era presa ce l'ha comunicata Nino Pesce che rappresentava Pino Piro Malti e rappresentava Nino Pesce un personaggio che in quel momento storico come dice Pittelli molti anni dopo era ad un livello talmente alto che probabilmente non era secondo a nessuno io vi dico che in quegli anni se qualcuno li ha messi lì certamente Pino Piro Malti era del 45 non aveva i 76 anni di ora e attenzione che qui c'è un passaggio che sembra banalmente riferibile allo stesso compagnia bella che è ricavata nella pagina precedente perché nella pagina precedente nel primo progressivo quando Francesco adornato spiega il motivo per cui secondo il suo pensiero Pino Piro Malti non esce dice ti dico un motivo Pino è compagnia bella la compagnia bella abbiamo visto qui invece parlando dei siciliani è straordinario veramente adornato per quello che sa dice usimento un affianco dei siciliani e compagnia bella che è esattamente quello che stiamo sostenendo da anni e cioè che la compagine criminale che ha ideato eseguito e capitalizzato quello che è avvenuto nella stagione stragista è formata da calabresi siciliani e compagnia bella come esattamente trovata nella sentenza di primo grado che Francesco adornato non ha potuto leggere perché è stata depositata due giorni dopo questa intercettazione quindi il compagnia bella Francesco adornato non lo ha ricavato dalla sentenza e continua a ripetere non c'era vedi che questo questo è un attenuante non essendoci stato al Sayonara e avendo la magistratura e le forze dell'ordine informazioni solo in relazione alla riunione del Sayonara perché il discorso delle commissioni di Stato non lo sanno ancora non lo sanno sanno solo del Sayonara e quello che gli ha raccontato Franco Pino Arturi Umile Vasquale Tripodoro e tutti gli altri collaboratori di giustizia che sono stati convocati in quel contesto o in contesti collegati e quindi se sanno questo vedi che ha un attenuante potrà sempre dire io non c'ero mi ha rappresentato uno che non ha capito il mio pensiero immaginatevelo voi Nino Pesce che in una situazione del genere non capisce e va lì a rappresentare il pensiero opposto rispetto a quello effettivo di Pino Piromalli io non voglio neanche pensare vuol dire la fine che Nino Pesce era destinato a fare e prosegue Luigi Mancuso c'era e qui crea un parallelismo importante perché per Pino Piromalli l'assenza per Luigi Mancuso invece la diversità di opinioni sono un attenuante e torna sull'attenuante Luigi Mancuso non c'era aspetta guarda come certi voti vi io che ragiono solo no? io non ragiono non ragiono casugno o cacutia io ragiono solo cioè sono assorto nei miei pensieri sono pensieri che tu non puoi avere perché tu determinate cose non le hai vissute quindi non è che io sto ragionando con te io ti sto riferendo il mio pensiero e tu mi ascolti perché tu certe cose non le sai gli interna corporis dell'andrangheta di alto livello tu non li puoi avere magari un giorno anche tu sarai in possesso di queste informazioni ma oggi mi devi soltanto ascoltare perché fisicamente ci sei ma è come se io ragionassi da solo eccezionale eccezionale da parte dell'imputato Filippone va bene prendiamo atto quando rientra poi ce la comunicata grazie io ero giuro solo Luigi Mancuso tu sai chi fici intra la commissione pestavo i pedi intra la commissione Luigi Mancuso pestavo i pedi ha pestato i piedi pestavo i pedi gli dice Giuseppe Ferraro con primario straordinario e chi voliva uno che è messo dentro la commissione con questi pezzi da 90 e soprattutto è quello che ospita al Sayonara la riunione che fa convoca la la riunione non vuole cioè le regole d'indrangheta dove sono finite le massime di esperienza che fine fanno ove fosse stato ospitato da un'altra famiglia e allora vuol dire questa chiave di lettura avrebbe avuto anche la possibilità di essere in qualche modo seguita per qualche tempo ma qui dobbiamo ragionare su un dato Luigi Mancuso convoca la riunione nell'ambito della quale bisogna comunicare la decisione della commissione stragi dell'indrangheta a casa sua ma voi immaginate Luigi Mancuso che in quel momento dipende in tutto e per tutto dai vertici della costa Piromalli che convoca una riunione a casa sua e dice no mi pare che sia assolutamente incompatibile con qualsiasi logica anche non criminale ma qui parliamo di una logica criminale perché un soggetto del genere nell'andrangheta è finito finito e non mi pare che la storia successiva ci consenta di dire che la carriera criminale di Luigi Mancuso sia finita il supremo dell'andrangheta Vibonese dell'andrangheta Vibonese vorrei che fosse chiaro perché bisogna con i termini come diceva qualcuno essere molto cauti perché le parole sono importanti esattamente come il supremo dell'andrangheta Regina Pasquale Condello dell'andrangheta Regina poi abbiamo altre figure che hanno supremazie di altra natura Pestau Ipedi Peccivolia Pestau non volia Cidissi Incissi Cissi Umutu no Upinu questo Incissi non è riferito al pensiero di Luigi Mancuso ecco perché voglio dire i due interlocutori sono costretti a precisare Umutu Upinu è sempre Pino che racconta e che cosa racconta Pino Pino racconta quello che ha raccontato a noi e che cosa ci ha raccontato a noi Pino Pino ha raccontato che Luigi Mancuso non è vero che ha detto no ha detto semplicemente e qui Adornato lo riporta con una chiarezza espositiva evidente in modo da far comprendere che stavano assumendo una decisione pesantissima che cosa ha detto ma se noi con questa gente ci abbiamo sempre mangiato e bevuto e finora voglio dire questo rapporto che viene indicato come un rapporto in cui con determinati soggetti bisogna andare a braccetto dice ma che bisogno abbiamo e soprattutto la mia perplessità che non significa no è legata al fatto ma noi abbiamo la possibilità di vincerla una guerra contro lo Stato noi abbiamo la possibilità dice testualmente Adornato riportando quelle che sono le perplessità di Luigi Mancuso nel racconto di Franco Pino di vincerla questa guerra contro lo Stato vincere la guerra non significa avere perplessità che sia arrivato il momento di combatterla quindi dice noi abbiamo deciso di combattere la guerra contro lo Stato ma ascoltatemi la vinceremo questo risulta testualmente dal contenuto di questa intercettazione Pestauipedi Piromalli era assente Testuni dice signor Pesce che lo chiamano Testuni questo si è messo avanti incidissi e ha sostenuto che bisogna attuare le stragi di Stato che bisogna attuare le stragi di Stato Luigi Mancuso introduce elementi di riflessione sui profili che vi ho indicato prima e questi elementi di riflessione che Francesco Adornato attribuisce a Luigi Mancuso lo portano a fare le considerazioni successive che a mio modo di vedere sono di straordinaria portata e che Luigi Mancuso avesse queste perplessità lo ricavate proprio dalla dichiarazione di Franco Pino perché Franco Pino dice di aver incontrato Luigi Mancuso dopo la riunione del Sayonara e di aver continuato a discutere con lui dopo che la decisione era stata presa delle perplessità che Luigi manifestava e cioè ormai abbiamo deciso noi saremo al fianco dei siciliani perché noi siamo sempre al fianco dei siciliani in situazioni di questo tipo ma continuo a riflettere tra me e me tutto questo a che cosa ci porterà che esattamente la conferma e non la smentita del pensiero di Luigi Mancuso che dice sì ma continuo a riflettere e mi sembra evidente e non posso neanche immaginare che gli altri componenti della commissione non abbiano fatto delle riflessioni del genere soprattutto perché sapevano bene voglio dire che la reazione dello Stato sarebbe stata per forza di cose molto forte e il fatto voglio dire che abbia manifestato perplessità e il fatto che queste perplessità esattamente come l'assenza al Sayonara di Pino Piromalli emergano dagli unici contenuti di cui la magistratura dispone che sono le dichiarazioni di quel collaboratore di giustizia secondo te non sono argomenti che anche questi verranno valutati a favore di Luigi quindi attenuante Peppino perché non c'era attenuante per Luigi perché ha manifestato perplessità questo dice grossolanamente in apparenza Francesco adornato che quando ci fanno giudizio a Luigi mancuso tu pensi che non ci fanno lo sconto lo sconto lo sconto lo sconto significa nel gergo chiaro che utilizza Francesco adornato verrà condannato con lo sconto non verrà assolto e questo significa che Luigi c'era ma ha avuto un atteggiamento prudente esattamente come quello di Nitto Santa Paola perché la storia è fatta di parallelismi perché vedete la cosa nostra catanese legatissima alla cosa nostra alla cosa nostra calabrese nella sua componente di indrangheta che da qualche udienza stiamo affrontando ha vissuto esattamente la stessa identica situazione nel momento in cui ovviamente i vertici della componente siciliana hanno cominciato a discutere all'interno di determinate tematiche e si sono trovati di fronte ad opinioni diverse e voi avete la traccia di tutto questo nel giudizio di primo grado in relazione a una vicenda emblematica di quello che è il ruolo di Salvatore Lina in un determinato momento quando percepite le perplessità di Nitto Santa Paola legatissimo proprio alle nostre componenti di indrangheta De Stefano Piromalli e ne avete sentenze in atti e avete decine di dichiarazioni dei collaboratori di giustizia sul punto manifesta perplessità utilizzando gli stessi identici argomenti di Luigi Mancuso dice ma ci abbiamo mangiato e dormito con questa gente siamo voglio dire ormai arrivati ad un livello di compenetrazione così alto attraverso le componenti massoniche che parliamone per l'amor di Dio zio Totò che ci vogliamo mettere in disaccordo però parliamone zio Totò che non è uno voglio dire che è molto propenso a certi discorsi sapete che fa prende Santo Mazzei e ne avete traccia nella sentenza di primo grado che non è Cosa Nostra fino a quel momento e lo fa entrare in Cosa Nostra dopodiché come raccontano i collaboratori di giustizia tra cui lo stesso Giovanni Brusca fa comprendere a Nitto Santa Paola questo è il passaggio preliminare al fatto che Rina ti toglierà la provincia di Catania quindi vedi che devi fare e Nitto Santa Paola si allinea nonostante le perplessità questo è ricostruito in primo grado è ricostruito in tantissimi alti processi il Santo Mazzei che per primo e torniamo al 1990 inizia la stagione della destabilizzazione collocando un proiettile di artiglieria nel giardino di Boboli a Firenze quel Santo Mazzei quel Santo Mazzei che rapporti con esponenti abicali di Cosa Nostra di cui parla proprio Giovanni Brusca quando parla di Paolo Bellini e Paolo Bellini è stato ascoltato in questa lunga vicenda processuale nella fase in cui si decide di creare ulteriore scompiglio e quindi di destabilizzare ulteriormente quelle fragili istituzioni dello Stato italiano in quegli anni pensando agli attentati poi al patrimonio artistico e a tutta una serie di beni culturali di alto livello sempre 1990 esattamente come dice come dice il nostro adornato quel Santo Mazzei quindi noi abbiamo sul versante siciliano lo stesso dubbio per quanto riguarda i Catanesi che sul versante calabrese a Luigi Mancuso è certo che ci fanno un scunto no utenono ci fanno utenono in considerazione ed è qui ed è già emerso nell'escussione di Galasso questo dato di straordinario rilievo perché dopo aver ribadito tre o quattro volte che utenono in considerazione ci fanno un scunto Francesco Adornato dice se ci fosse stato un altro ad essere scettico magari la riflessione sarebbe andata ancora avanti e invece non c'era nessuno scettico oltre a Luigi Mancuso e quindi la decisione è stata presa e poi prosegue e qua vinci sta guerra qua sta tu vinci a guerra con questi personaggi si deve trattare non si deve combattere ma non è che per caso ha letto già le dichiarazioni di Schettini mi è venuto il dubbio che Francesco Adornato nel dire queste cose sulla necessità di trattare con questi personaggi testuale parole abbia letto il verbale di Schettini del 96 ah certo questo dubbio io ce l'ho non l'avevo letto io il 17 gennaio del 2021 il verbale di Schettini perché nessuno sapeva che esistesse il verbale di Schettini magari l'ha letto lui non ha letto proprio niente il racconto che Adornato fa sul fatto che con certi personaggi si debba trattare che determinati legami l'andrangheta li ha sempre avuti e che non bisogna mai rompere un determinato fronte se quel fronte funziona è frutto del suo vissuto non di quello che racconta Tonino Schettini uomo dei papalia e dico ho trovato no noi avimu agli iri dice noi avimu a trattare questi personaggi non avimu agli iri o sparamo perché dice ci dobbiamo imbrattare dice Luigi che la riflessione di Luigi Mancuso a un certo punto si interrompa e prenda una strada diversa e cioè che anche Luigi Mancuso nonostante le sue perplessità immaginate la scena dice signore la decisione è presa però voglio dire cerchiamo di non abbandonare diciamo un minimo di logica e soprattutto cerchiamo di non dimenticare le nostre dinamiche più evolute che ci sono costate tanti morti e tante guerre per arrivare voglio dire a condividere con i pezzi delle istituzioni infedeli e deviate una serie di obiettivi abbiamo deciso però riflettiamoci perché la guerra con lo Stato si può fare ma non si vince e soprattutto riflettiamo sul fatto che se iniziamo a fare la guerra allo Stato una guerra che non si vince magari nel corso della guerra è il caso di continuare a trattare perché nulla esclude che si inizi una guerra esattamente come Salvatore Rina insegna per come emerge dalle intercettazioni che lo riguardano e dai riferimenti che Giovanni Brusca fa sul punto Salvatore Rina disse la guerra si fa per fare la pace facciamola pure la guerra ha detto Luigi Mancuso ma la guerra non si vince e soprattutto nel momento in cui cominciamo a dare determinati colpi ricordatevi che quello è il momento in cui si inizia a trattare ma nel passaggio successivo quando Francesco Adornato dice no ma chi dudinno ma noi ma noi pecchindavimmo imbrattari perché ci dobbiamo sporcare dice Luigi ma un attimo dopo dice però nonostante questo pensiero dice va bene dice Luigi dice questo è quello che io penso e vi invito alla riflessione anche se la decisione è presa ma vi aggiungo un altro pensiero si è deciso così va bene dice noi ci avvimo a dare ascolto ai siciliani punto possiamo riflettere quanto vuoi il 41 bis già c'era verrà irrigidito ne pagheremo le conseguenze ma noi ci dobbiamo dobbiamo dare ascolto ai siciliani e che la situazione ovviamente non può che peggiorare evidente e qui si innesta la riflessione postuma di Francesco Adornato quando dice ma con il senno di poi ma non era detto che noi dovevamo dare ascolto ai siciliani ma quando mai eppure abbiamo dato ascolto ai siciliani ed oggi non possiamo sperare altro che in una serie di attenuanti per chi ha detto sì alla richiesta dei siciliani ecco spunto l'attenuanti nella sua più evidente significazione i ministri i corpi stati questo ci hanno chiesto questo abbiamo fatto lo abbiamo fatto e lo dirò nel corso delle repliche con una tecnica raffinata che l'andrangheta ha sempre utilizzato facendolo apparire come un fatto di ragazzini che volete che prendessi che andassero a sparare i vertici dell'andrangheta no dice vediamo abbiamo detto sì ma le modalità esecutive poi le decidiamo noi per quanto riguarda il nostro contributo ce ne abbiamo due ragazzi idonei che possiamo far passare come due invasati che sparano fanno quello che devono fare ma li scarichiamo in un secondo e rimaniamo immuni come è avvenuto per circa 25 anni da responsabilità alte e come non ce l'abbiamo a voi più di uno e vedi quelli che sono quelli giusti comincia a parlare voglio dire con il nostro uomo di massima fiducia in questo territorio che è Rocco Santo Filippone e vedi un po' che mi risulta che ha un nipote che spara come nessuno vedi un po' se si può organizzare questo raccontano i collaboratori in primo grado e poi ripercorrerò insieme a voi alcuni passaggi del dichiarato di Villani e lo giudice perché ho avuto la sensazione ascoltando i difensori che probabilmente il trascrittore avesse predisposto due versioni una per me e una per loro non mi ritrovavo e quindi le ho rilette per l'ennesima volta e prosegue ho concluso Presidente sempre Francesco perché ha voglia proprio di spiegare di sviscerare di non lasciare niente di diciamo di non completo di non completato o di equivoco dice tornando su Luigi Mancuso quando si faci un consiglio sopra una persona a poi distinguono dinno se era becchisto non avia succeduto certo che lo tenono in considerazione ah è successo quindi è successo se era becchisto non avia succeduto se le perplessità di Luigi Mancuso fossero diventate le perplessità anche di altri e se non ci si fosse fermati a quella decisione che è stata presa tutto quello che è successo dopo non sarebbe successo e quindi è successo quello di cui parliamo in questo processo e quello che è successo è molto semplice che i vertici dell'andrangheta hanno detto sì come già ci risultava chiaro dalle acquisizioni che si erano già formate su questo versante nel corso della lunghissima istruttoria di primo grado e della non meno lunga istruttoria in grado di appello e quindi l'andrangheta nelle sue componenti apicali dal punto di vista operativo ha detto sì soprattutto c'è da tenere in considerazione un dato che noi il ruolo di Pino Piromalli Luigi Mancuso Nino Pesce lo avevamo già individuato prima di questa conversazione lo avevamo individuato prima di questa conversazione lo avevano individuato anche una serie di collaboratori di giustizia tra i quali quelli sentiti qui in grado di appello che hanno un'estrazione criminale a volte distantissima da quella di Francesco Adornato e quindi anche qui o abbiamo la solita fortuna oppure le componenti apicali di indrangheta e cosa nostra parlano sempre degli stessi soggetti quegli stessi soggetti che il collaboratore di giustizia Giuseppe Di Giacomo colloca in quella componente apicale di indrangheta da parificare alla cupola questo dice andate a vedere i nominativi che Giuseppe Di Giacomo fa dei grandi capi indrangheta da parificare alla cupola siciliana e ci mette dentro esattamente queste persone Nino Pesce Pino Piromalli Luigi Mancuso Giuseppe Di Giacomo che sinceramente non mi risulta aver avuto mai rapporti con Ciccio Adornato questa è la forza dimostrativa di un'acquisizione genuina che va straordinariamente a confermare perché come ho detto prima è l'intercettazione che in maniera assolutamente inedita affronta in maniera diretta i contenuti di cui ci occupiamo in questa sede e fornisce ulteriore confermo a un quadro che è già ampiamente dimostrato quindi concludo questa mia integrazione alla requisitoria ribadendo integralmente le richieste che ho già fatto allora sospendiamo 12-5 e poi riprendiamo quindi il procuratore generale deve proseguire come repliche mi dica lei se c'è la necessità di completare adesso le discussioni dei difensori e poi in realtà avrei da replicare certo io ho schematizzato molto e ascoltando i difensori ho ovviamente anche scremato quella che era la stesura originaria delle repliche ma voglio dire subito che se c'è un momento importante nel lungo svolgersi di un dibattimento per il pubblico ministero il momento più importante non è quello in cui discute e quindi sottopone all'attenzione del giudice quella che è la ricostruzione che l'ufficio di procura fa propria in questo caso di procura generale ma sono le arringhe difensive perché solo in quel momento i presunti pieni del pubblico ministero si confrontano con i vuoti che gli argomenti a discarico sono in grado di generare e solo in quel momento e quindi è solo in questo momento delle repliche in cui il pubblico ministero si confronta con argomenti non suoi ed è in grado di dare delle indicazioni a mio modo di vedere decisive al giudice che lo ascolta non tanto per confutare le argomentazioni difensive assolutamente legittime e in numerosi passaggi anche aderenti a quelle che sono le risultanze inatti diversamente argomentate questo mi pare evidente rispetto a quello che sostiene il procuratore generale ma anche e soprattutto la replica serve a segnalare un insieme di errori che per forza di cose devono essere analizzati nel dettaglio perché in alcun modo possono diventare la base di un'argomentazione creare il fatto che non c'è attribuire a quel fatto delle sembianze che quel fatto non ha mettere in bocca al procuratore generale cose che non ha mai detto e quindi sostanzialmente argomentare o meglio avviare le proprie argomentazioni su dati inesistenti non è consentito non è consentito a noi ma non è consentito neanche alle difese e questa non è alcuna forma di compromissione o di compressione di quelle che sono le prerogative del difensore nella misura in cui il processo così come strutturato nel nostro sistema deve confrontarsi con dati reali non con opinioni che diventano fatti e che sorreggono altre opinioni che questo ci allontana molto da uno schema legale assolutamente imprescindibile io sono un appassionato di architettura ve l'ho già detto mi sa ve lo ribadisco finito questo processo io voglio incontrare il tecnico che ha montato questi microfoni perché gli voglio chiedere perché 20 cm indispensabili vi garantisco che genera una come vi devo dire uno sbilanciamento in avanti che veramente affatica le gambe vabbè superiamo anche questo dicevo io sono un appassionato di architettura e ho apprezzato il passaggio in cui l'avvocato Vianelli vi ha parlato di giudici di periferia citando un articolo che adesso non ricordo bene neanche a firma di chi sia perché ho la capacità di andare in autoprotezione quando sento alcune argomentazioni ma certamente questa autoprotezione non mi ha impedito di ascoltare le citazioni che l'avvocato ha fatto di un libro mi pare di aver capito poi mi farò dare gli estremi di questo libro perché lo voglio leggere ma certamente una particolare argomentazione mi è rimasta in mente in cui questo presunto articolista autore saggista che dir si voglia sostanzialmente prende le mosse da una considerazione geografica dicendo ma come è possibile che ci sia un magistrato in periferia che sostiene testualmente queste tesi folli leggevo proprio qualche tempo fa un articolo di Renzo Piano che si concludeva con questa frase che ho annotato per non dimenticarla la periferia è una fabbrica di idee è la città del futuro questo dice Renzo Piano perché prendiamo per buono il fatto che qui a Reggio Calabria si viva di periferia e ci si senta periferia quale manifestazione marginale di tantissime situazioni credetemi questo è un argomento che si può spendere ovunque tranne che in un'aula di giustizia qui a Reggio Calabria perché questa sede ha una caratteristica che nessun'altra sede può vantare quando si parla di indrangheta non è periferia è capitale mondiale quindi l'argomento che spende il difensore è assolutamente fuori luogo è assolutamente errato è assolutamente in contrasto con la produzione giurisprudenziale di un distretto che è sicuramente il distretto che ha meglio lavorato in tema di crimine organizzato negli ultimi vent'anni lo dico io no lo dice la Suprema Corte quindi non siamo periferia di nulla da questo punto di vista e verrebbe da dire da cittadino purtroppo perché l'andrangheta ci ha reso centro assoluto delle ricostruzioni che la riguarda vedete come un argomento apparentemente banale serve a fondare una serie di riflessioni ma quell'argomento è falso falso totalmente fasullo se parliamo di indrangheta perché il cuore la testa dell'andrangheta è in questo distretto e perché tutte le dinamiche di indrangheta che contano sono dinamiche che hanno origine in questo distretto ecco come può aiutare l'essere appassionati di architettura e l'architetto costruisce e noi costruiamo o meglio tentiamo di costruire per quello che è il ruolo che ci viene affidato un frammento di verità che manca il teorema folle di cui si parla in alcuni passaggi delle ringhe difensive vorrei subito che fosse chiarito è un teorema folle che fino a questo momento ha coinvolto quattro pubblici ministeri un giudice per le indagini preliminari sei giudici del riesame e dieci magistrati di Cassazione per quanto riguarda la fase cautelare più otto giudici di corte d'assiso il conto fatelo voi perché non vorrei sentirmi solo in questa follia perché solo non sono c'è un altro aspetto che mi preoccupa perché ovviamente a volte la lingua non segue la testa se parlando di Mazzei ho detto 90 come ho annotato ascoltando l'avvocato Aloisio in relazione al proiettile d'artiglieria trovato nel giardino di Boboli il giardino di Boboli è novembre 92 quindi dato pacifico ricavabile da numerose sentenze tra cui quella di cui si dibatte in questa sede il riferimento a Santo Mazzei in relazione al giardino di Boboli è relativo ad un episodio del novembre 92 non mi pare di aver parlato di Santo Mazzei in relazione al 90 io ho detto che i riferimenti di Adornato al 90 noi li ricaviamo da tutta una serie di vicende che coinvolgono i Papalia e quindi il vertice dell'Andrangheta a partire dall'11 aprile di quell'anno mormile poi ho parlato di Mazzei quando ho fatto riferimento alle perplessità di Luigi Mancuso per dire che anche Cosa Nostra ha vissuto alcune figure perplesse e che fra queste figure perplesse c'è Nitto Santa Paola il quale commissariato da Rina attraverso Santo Mazzei che viene fatto uomo di Cosa Nostra ha visto in qualche modo indebolito il suo ruolo nella provincia di Catania e ha superato una diversità di approccio che aveva tentato di manifestare vorrei che questo fosse chiaro perché mi dispiacerebbe che non lo fosse il 1990 invece voi lo trovate e mi scuserà la Corte se parto dagli ultimi argomenti ma penso che sia più facile così cioè degli ultimi argomenti che sono stati introdotti alla vostra attenzione quindi l'ultimo incidente istruttorio di quell'articolo 602,4 relazione al 523,6 del Codice di Rito nella sentenza dalle pagine 443 e seguenti voi trovate tutta una serie di riferimenti di riferimenti al 1990 è certo che nessuno può escludere e chi lo ha fatto io ho escluso che abbia letto la motivazione della sentenza il signor Adornato ma se il signor Adornato diciamo è assolutamente in grado come ritengo di consultare testate online o voglio dire di accedere a Radio Radicale o ad altri servizi informativi che passano in rete come ovviamente ritengo sia in grado di comprare ancora varie pubblicazioni cartacee è certamente che ha avuto modo di leggere la cronaca giudiziaria di questo processo attenzione però che invocare questo argomento alla vostra che portare questo argomento alla vostra attenzione perdonatemi il gioco di parole che evidenziare questo tipo di argomento e in realtà introduce un elemento difficile da incasellare in quella che può essere la posizione di un difensore o la confutazione di un argomento a carico del pubblico ministero perché sostanzialmente vi si sta dicendo attento giudice che l'oralità del processo e il fatto che l'udienza sia pubblica e quindi voglio dire che in relazione a una vicenda processuale si assista a una corposa cronaca giudiziaria diventa definitivamente inquinante e quindi sostanzialmente tutto quello che ha a che fare con un processo in corso di celebrazione tu lo devi considerare carta straccia a me sembra un argomento insostenibile per quelle che sono le caratteristiche di oralità e di pubblicità di un dibattimento ed è certamente un argomento insostenibile quando in maniera molto semplicistica si tenta senza elementi concreti in mano di dire attenzione che la conversazione commenta il processo e adesso vediamo brevemente per l'ennesima volta perché non è così e quindi tutto quello che dice Adornato noi lo dobbiamo presumere come proveniente dall'attività dibattimentale e non dal suo vissuto e cioè sostanzialmente processi di indrangheta in questo territorio non se ne possono più celebrare mettiamoci l'anima in pace perché che l'andrangheta sia unitaria è ormai un dato notorio che ci sia voglio dire un circuito ristrettissimo di grandi famiglie che hanno un nome ben preciso e altrettanto notorio e così via tutta una serie di caratteristiche dell'andrangheta sono arcinote tutti coloro i quali parlano di queste tematiche e vengono intercettati non servono a niente chiuso andiamo chiuso non capisco perché stiamo qua da molte udienze a parlare del nulla stiamo qua a parlare invece di fatti di straordinario rilievo perché non è così e perché tutto quello che ci vedono gli avvocati in quei tre progressivi non è assolutamente riferibile a un notorio giudiziario che viene commentato da adornato ma è esclusivamente riferibile al richiamo di alcune dichiarazioni rese da franco pino senza sapere se quelle dichiarazioni sono state riportate ad adornato da altri o se adornato le abbia lette direttamente se è vero come ha detto da ultimo l'avvocato Aloisio che tutti i riferimenti ad articolo presenti in quella conversazione non sono in alcun modo riferibili al lavoro che fanno i giornalisti a che si parla di 41 bis dove c'è scritto che ha letto gli articoli che riguardano il narrato di franco pino da nessuna parte e questo l'avvocato lo dice con chiarezza dicendo voglio essere chiaro articolo è sempre 41 bis mai la produzione di un giornalista o di una testata questo è il dato di fatto su cui ci dobbiamo confrontare poi tutto il resto voglio dire possiamo stare qui per giorni a raccontarcelo e serve davvero a pochissimo nella sentenza vi dicevo andate a ritrovare a ricercare con attenzione quello che dicono i collaboratori nella parte in cui si parla della riunione di Nicotera se non ricordo male sono circa 30 pagine di motivazione e troverete tutte le risposte che vi servono per dire che ogni riferimento fatto nel corso della conversazione di cui parliamo oggi è assolutamente nella disponibilità dell'adornato indipendentemente da quello che c'è scritto nelle trascrizioni di quelle deposizioni che spesso finiscono sulla stampa perché ove così fosse adornato avrebbe citato anche il dichiarato di fiume avrebbe citato il dichiarato di ulteriori collaboratori di giustizia anche richiamati oggi dagli avvocati come Arturi Umile avrebbe richiamato tutta una serie di contenuti che nella conversazione non ci sono perché ha adornato che cosa interessa evidenziare nel discutere con Ferraro Giuseppe interessa mettere in evidenza potenziali argomenti a discarico di Pino Piromalli e l'unico che fornisce potenziali argomenti a discarico di Pino Piromalli è Franco Pino Francesco Pino quando dice Pino Piromalli non c'era non gli interessa altro non gli interessa commentare Nino Fiume quando dice caro pubblico ministero io ricordo bene che iniziamo a parlare di stragi in epoca antecedente all'omicidio Scopelliti è successiva all'attentato ai danni di Giovanni Falcone alla Daura quindi tra l'estate dell'89 e l'estate del 91 e tra l'estate dell'89 e l'estate del 91 quale anno c'è? Il 90 ricordo altrettanto bene caro pubblico ministero che nell'estate del 90 io e Giuseppe De Stefano ecco il rilievo dal 90 che covava io e Giuseppe De Stefano andammo nella struttura di un tale Comerci a Parghelia il Blue Paradise sì soggiornammo in questa struttura villaggio c'erano anche i piromalli perché il Comerci dice Fiume è un piromalli c'erano anche rappresentanti dei Papalia parlammo di tante cose ma io sono Nino Fiume il mio grande capo è Giuseppe De Stefano lui parlava di determinate cose io ovviamente di determinate cose non potevo parlare estate 90 era presente pure Tonino Schettini quel Tonino Schettini quello del verbale del 96 che ci spiega che cos'è Falange Armata e come nasce il progetto Falange Armata pure Tonino Schettini nel 96 aveva letto di questo processo pure Annunziatino Romeo nel 96 aveva letto di questo processo e sapeva che nella follia inquisitoria un giorno ci sarebbe stato qualcuno che sarebbe andato a ricercare la componente riservata dell'Andrangheta nel 96 ammazza che capacità di preveggenza sia l'uno che l'altro guardate questa parte e soprattutto guardatevi di quante riunioni parla Fiume come dice Adornato ma non cita più tante riunioni Nicottera Badia di Limbadi Limbadi Rosarno c'erano c'erano tutti i capi dei clan di tutte le famiglie e per fare questa cosa qua dice Fiume sono a pagina 445 della sentenza il garante per certi aspetti era Luigi Mancuso lo zio Luigi lo chiamavano perché era quello che ospitava le riunioni però prima c'era state udite udite una stretta stretta una stretta stretta una riunione stretta stretta tra i capi là Franco Poco Giuseppe De Stefano Pino Piromalli Nino Testuni Antonino Schettini che poi collaborerà ma guarda che stranezza esattamente gli stessi soggetti di cui abbiamo parlato nel corso di questo processo esattamente gli stessi soggetti che in relazione alla commissione di cui ci parla Adornato hanno avuto ruoli decisionali salto per non perdere il filo anche se questo era il punto 19 lo anticipiamo e lo eliminiamo ma che dice Franco Pino in questo benedetto verbale che Adornato richiama soltanto in parte e soltanto per portare all'attenzione del suo interlocutore elementi che possano attenuare il ruolo di Pino Piromalli esattamente come si potrà fare per Luigi Mancuso intanto esplicita in maniera molto dettagliata quali sono le perplessità di Luigi Mancuso e dice gli chiede il pubblico ministero mi faccia capire Franco Pino le perplessità di Luigi Mancuso rispetto alla proposta che lei ci ha illustrato a che cose erano legate? lo vedeva come un problema lo schierarsi apertamente apertamente ecco la falsa politica dell'andrangheta lo schierarsi apertamente era un problema perché noi siamo un'associazione segreta ancora più segreta con una doppia compartimentazione in relazione alle decisioni dei capi perché la base il picciotto quello che hanno deciso i grandi capi in relazione alla richiesta di Salvatore Rina non lo devono sapere perché se no il mondo finiva lo schierarsi apertamente perché questo era come schierarsi apertamente invece bisognava schierarsi ma non apertamente perché noi non dovevamo combattere una guerra in campo aperto perché combattendo in campo aperto i morti cadono a grappoli ovviamente qui non di morti fisiche si parla nel momento in cui la guerra allo Stato genera una reazione forte ma certamente tantissimi problemi giudiziari tantissimi problemi di pubblica sicurezza l'esercito per le strade e come ci muoviamo più lo schierarsi apertamente dice testualmente Franco Pino insomma in Calabria c'era più la tendenza a nascondersi ecco come dice Adornato ma qua dice siamo sempre stati abituati a trattare dice che me devo fare di mimetizzarci di affrontare i processi uditi e udite e di vincere le cose ricattando le persone non facendo la guerra aperta l'abbiamo sempre fatta la guerra ma l'abbiamo sempre fatta con strumenti evoluti senza sparare perché qui voglio dire sparare ai magistrati non serve li ammazziamo in un altro modo mantenendoli vivi e prosegue alzare le armi contro lo Stato non era una cosa che a noi portava inutile diceva Luigi ma non per questo non abbiamo aderito alle richieste queste erano le perplessità di una persona che aveva vissuto altre dinamiche di indrangheta e sapeva perfettamente che quelle dinamiche particolarmente evolute ma come non sono rozi sti poveri calabresi avevano sempre pagato quelle dinamiche particolarmente evolute la mimetizzazione il nasconderci il ricatto avevano sempre pagato ecco il ragionamento che abbiamo fatto prima commentando quel passaggio di Adornato che parla del pensiero di Luigi Mancuso ma sapete che cosa dice poi a un certo punto Franco Pino perché io ovviamente questo in discussione non l'ho detto perché aspettavo che lo portassero alla vostra attenzione i difensori che ovviamente non lo hanno fatto e questa è la dimostrazione che Franco Pino il verbale di trascrizione che Ciccio Adornato il verbale di trascrizione di Franco Pino non lo ha letto mai ma gli è stato raccontato vi di Ciccio che Franco Pino e Cosenza dissino pari così perché se avesse letto il verbale di trascrizione di Franco Pino Franco Pino sapete che cosa dice a un certo punto dice che loro hanno partecipato alla riunione ma che nel corso della riunione Nino Pesce anche per conto dei Piromalli e Luigi Mancuso ma per effetto di una riunione ristretta ecco la differenza tra Sayonara e Commissione per effetto di una riunione ristretta tra chi Luigi Mancuso Nino Pesce e Pino Piromalli non portarono in realtà una proposta quel giorno ma portarono una direttiva l'ordine il comando lo dice Franco Pino nel verbale che la Corte d'Assise si richiama nelle pagine che vi ho indicato prima quindi con lavori di commissione da una parte guarda caso esattamente i nomi che abbiamo inadornato la direttiva dice Franco Pino è fantastico questo passaggio mascherata da proposta ma in realtà sapevamo tutti che era una direttiva perché quelli erano capi posti ad un livello enormemente più alto di noi e questa direttiva era il frutto udite udite della decisione di un triunvirato è Franco Pino che parla non è il dottore Lombardo Luigi Nino e Pino questo era il triunvirato la commissione ma dice anche un'altra cosa tristissima per dirvi che la decisione fu presa esattamente nei termini che si sostengono in questa sede che l'esito della decisione della riunione fu quello di incamerare l'indicazione che bisognava attaccare i carabinieri questo dice Franco Pino e questo noi dobbiamo valorizzare oggi anche e soprattutto alla luce di quello che dice Calabro Giuseppe il 7 maggio del 2014 riunione di Nicotere in cui si porta la direttiva del triunvirato si aderisce alla strategia stragista di Cosa Nostra e si aderisce attaccando i carabinieri dice Franco Pino il 7 maggio del 2014 nel verbale che è stato acquisito ex articolo 500,4 in primo grado di Giuseppe Calabro Giuseppe Calabro quando racconta dell'incontro nel corso del quale gli viene consegnato il mitra per attentare alla vita dei militari poi morti dice che il cugino Antonio Filippone a margine della riunione tra Rocco Santo Filippone e i siciliani perché attenzione ora ci arriviamo brevemente a questi passaggi perché qua mi si dice che non ci sono prove sul contatto tra la componente Filippone e la componente siciliana Calabro Giuseppe dice io ho sentito proprio l'accento siciliano quando sono andato nella masseria di mio zio Rocco Santo in località Acqua e Bianche di Rosarno scusatemi ogni tanto mi blocco perché ho un hard disk che tende ad essere in via di esaurimento non confondere altre situazioni credete Acqua e Bianche di Rosarno io ho sentito i siciliani e quando Antonio Filippone mi è venuto incontro e mi ha detto caro Giuseppe caro cugino sappiamo bene quanto spari senza difficoltà e con grande perizia te la senti te la senti di sparare ai carabinieri sempre i carabinieri sempre quei carabinieri di cui parla Franco Pino sempre quei carabinieri che teme Nino lo giudice sempre quei carabinieri che come abbiamo cercato di evidenziare nel corso della requisitoria non erano obiettivi qualsiasi perché gli obiettivi da colpire erano loro già nelle decisioni del triunvirato riportate ai presenti nel corso della riunione di Nicotera e poi confermate al principale esecutore materiale Giuseppe i carabinieri con questo mitra prenditelo e spara e qui cerco di riprendere l'ordine dell'intervento che hanno fatto gli avvocati nel corso delle loro a ringhe per dire che più che gli argomenti a discarico mi hanno colpito gli argomenti i silenzi difensivi su alcuni passaggi passaggi che il pubblico ministero nella sua requisitoria ha affrontato lungamente ad esempio la difesa di Filippone perché parto da lui perché prima hanno discusso i suoi difensori omette del tutto di confrontarsi con una serie di argomenti chiave della vicenda Calabro la lettera scritta da Giuseppe Calabro indirizzata al procuratore nazionale antimafia Piero Grasso e non inviata che pacificamente per quello che è emerso in sede di istruttoria in primo grado è a lui attribuibile perché lo dice lui peraltro il 7 maggio del 2014 un attimo prima di alzarsi in piedi e di scagliarsi contro la parete della sala interrogatori di Tempio Pausania a lui viene contestata l'esistenza di una missiva scritta sul computer della biblioteca del carcere di Ferrara indirizzata a Piero Grasso in cui lui ammetteva la strategia stragista e no perché se no qui voglio dire nel silenzio non vorrei che si perdesse di vista che l'apporto confessorio di Calabro è il cuore di questo processo lo conferma lo conferma il maresciallo Giardini lo conferma Giuseppe Calabro lo confermano le minacce di Marina Filippone certo possiamo estrabolare tutto dei discorsi di una madre come no figlio stai attento stai per scontare la pena chi te lo fa fare mettiti nei panni di una mamma cerca di pensare voglio dire che il passato è passato è ovvio e che non conosciamo voglio dire com'è sono straordinariamente efficaci le madri ma ricordati soprattutto che qui sullo sfondo non ci sono io non c'è tuo padre non c'è Francesco Calabro scomparso c'è la famiglia e soprattutto c'è una logica criminale assolutamente imprescindibile che è direttamente riferibile a tuo zio e al tuo cugino famiglia 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 questa omissione a mio parere dimostra una debolezza dell'assunto difensivo con una scelta consapevole di avvocati assolutamente capaci e lo avete sentito di portare alla vostra attenzione argomenti potenzialmente efficaci ma che su questi temi non si confronta si confrontano soltanto su argomenti comodi in cui l'assunto difensivo ruota attorno ad un intento demolitorio per l'asserita mancanza di prove dirette circostanza falsa in relazione al coinvolgimento di Rocco Santo Filippone è certo e che vogliamo fare i processi alla storia no noi facciamo i processi alle persone e questo mi sembra evidente se per processare le persone come ho detto in serie di requisitoria poi dobbiamo ricostruire 30 anni di storia noi siamo qui anche per fare questo forza di cosa che quando si parla di determinati fenomeni criminali e non si parla di fatti istantanei che nascono e muoiono in un istante al di fuori di logiche criminali strutturate evolute e purtroppo per tutti noi tendenzialmente eversive siamo costretti a lavorare per un tempo indefinito anche su tanti argomenti voglio dire che potrebbero sembrare stranei da quello che si ricostruisce in un'aula di giustizia ma così non è primo punto secondo punto il capo ha della rubrica penso che sia importante partire da lì perché ogni volta che io ascolto questo tipo di riferimento corro a prendere il computer per andare nuovamente a rileggere quello che abbiamo contestato nel 2016 quando abbiamo scritto la richiesta di misura cautelare e abbiamo scritto ce l'avete in atti che Rocco Santo Filippone è un soggetto che prende parte all'andrangheta unitaria e abbiamo precisato ove non bastasse che prende parte all'andrangheta unitaria attraverso attraverso le sue apicali articolazioni territoriali nominate Cosca Filippone e Cosca Piro Magli questa è la contestazione per poi andare ulteriormente a specificare il suo ruolo e dire che risponde del comma 2 dell'articolo 416 bis perché contrariamente a quello che sembra per la mancanza di sentenze sul punto che abbiano acquisito l'autorità di cosa giudicata è un soggetto di altissimo livello badate che uno degli argomenti più utili a questo fine sul quale ho nuovamente notato l'assoluto silenzio da parte dei difensori di Rocco Filippone è quanto si acquisisce nell'ambito dell'operazione infinito quando si attribuisce a Rocco Santo Filippone il compito di deliberare all'interno di queste componenti di indrangheta l'avanzamento di grado di una serie di soggetti operazione infinito di Milano che fa il paio con l'operazione il crimine sull'indrangheta unitaria non mi chiedete perché non sono in grado di rispondervi perché a fronte di determinati contenuti la figura di Rocco Santo Filippone come in passato era avvenuto anche sulla base di acquisizioni altrettanto significative oggi registri un certificato del casellario giudiziale che è quello in atti non me lo dovete chiedere perché non lo so e quindi gestisce all'interno della più ampia cosca Piromalli la sottoarticolazione riferibile alla cosca Filippone di Melicucco incontra i capi famiglia come ci ha detto anche Bruzzese nell'integrazione istruttoria al fine di rimere tutta una serie di questioni che hanno a che fare con le articolazioni di indrangheta a lui collegate e nel caso specifico da esecuzione attenzione il capo di imputazione dice che da esecuzione non delibera dare esecuzione alle decisioni di maggior rilievo criminale tra le quali quelle di aderire alla strategia stragista perché nel triunvirato Rocco Santo Filippone non c'è e nell'intercettazione adornato non si parla di lui si parla del triunvirato che poi ci sia una componente ancora più alta che li ha messi lì mi sembra evidente come risultava già evidente dal fatto che il pubblico ministero già nel capo di imputazione nel 2016 aveva indicato che quelle decisioni che Rocco Santo Filippone mette in esecuzione erano state deliberate dalla componente riservata della predetta organizzazione di tipo mafioso perché le tracce erano tali e tante sul punto da consentire questo tipo di formulazioni affronta ovviamente risolve varie problematiche operative e gestionali che riguardano la più ampia organizzazione di appartenenza questa è la formulazione nei confronti di Rocco Santo Filippone e visto che è stata evocata tante volte e io lo farò veramente in maniera telegrafica la nota sentenza a sezioni unite modafferi modafferi domenico del 27 maggio 2021 vi dico che allo Stato allo Stato perché siamo tutti abituati alle fisiologiche evoluzioni giurisprudenziali perché cambiano i fenomeni criminali e cambia la ricostruzione che di quei fenomeni noi siamo chiamati a fare allo Stato il modello adottato dalle sezioni unite e il cosiddetto modello organizzatorio di tipo dinamico e cioè non mi basta che tu sia stato affiliato se non hai un minimo di dinamismo all'interno dell'organizzazione la mera affiliazione potrebbe non bastare perché la mera affiliazione dice la modafferi è un mero indizio della stabile compenetrazione tra il soggetto e l'organizzazione è seriamente sostenibile davanti alla Corte d'Assise d'Appello di Reggio Calabria che nell'ambito di questo processo non sia stato ricostruito il dinamismo di Rocco Santo Filippone perché se per arrivare a dimostrare il dinamismo di Rocco Santo Filippone era necessario che lui stesso prendesse il mitra e sparasse ai carabinieri probabilmente siamo totalmente fuori da quello che ci viene chiesto per ricostruire la rilevanza penale di una condotta anzi anzi vi dico che come raramente accade anche alla luce dell'ultimo arresto giurisprudenziale sul punto che quello che vi ho appena richiamato Rocco Santo Filippone è proprio espressione di quel dinamismo operativo che consente di contestare la più grave ipotesi delittuosa di cui al comma 2 dell'articolo 416 bis tanto in relazione al territorio di Melicucco che all'interno di quelle dinamiche criminali che fanno capo alla famiglia Piromalli quindi di più ampia portata che noi ricaviamo e anche qui vi viene detta una cosa falsa dalle dichiarazioni che Villani consolato effettua abbondantemente entro i 180 giorni ma io ho sentito parlare di violazione di quel termine di dichiarazioni tardive e ho detto e si vede che quel giorno ho avuto un'allucinazione acustica quando Villani da me interrogato mi ha detto attenzione dice dottore che il vertice del mandamento tirrenico come carica formale è affidato allo zio di Calabro Giuseppe Rocco Santo Filippo assolutamente tempestivo Villani nel dire qual è il ruolo di un soggetto con il quale lui aveva avuto rapporti come altrettanto pacifico e noi non teniamo in alcun modo di confrontarci su questo argomento che lì si è fermato pacifico gli ha attribuito una carica elevatissima nel mandamento tirrenico e vi ho già detto in corso di requisitoria che l'operatività dell'Andrangheta si ricava proprio dall'operatività mandamentale quindi il massimo contesto operativo è proprio quello nell'ambito di Andrangheta e si è fermato pacifico che non abbia detto perché sa caro dottore Lombardo poi su questa figura c'è molto altro da dire come è stato fatto dallo stesso Villani qualche anno dopo no allora che non abbia parlato di Rocco Santo Filippone nei 180 giorni è pacifico che abbia parlato mi scusi che non abbia parlato di Rocco Santo Filippone in relazione agli attacchi ai militari dell'arma dei carabinieri nei 180 giorni è altrettanto pacifico ma io ho sentito dire che c'è un ritardo dichiarativo che di Rocco Santo Filippone non parla mai nei 180 giorni cosa che non è vera e poi vediamo ancora una volta perché Villani è lo giudice di quelle che sono le dinamiche sconosciute fino a quel momento che ruotano attorno al duplice omicidio Favre Garofalo e agli altri due gravi gravissimi episodi criminosi e soprattutto perché è assolutamente spiegabile quel silenzio come bene ha ricostruito sul punto la sentenza di primo grado è inutile che io vi ribadisca che le sezioni unite anche qui con la sentenza 1150 del 2008 dicono esattamente l'opposto di quello che vi hanno detto le difese perché le difese vi hanno detto che mentre le dichiarazioni tardive si possono utilizzare a determinati fini in sede di indagini preliminari o in sede di giudizio abbreviato vi hanno detto che l'utilizzazione in sede dibattimentale è preclusa che è esattamente l'opposto di quello che dicono le sezioni unite che dicono che problemi di inutilizzabilità in sede dibattimentale non ce ne sono ove quelle dichiarazioni tardive si formino anche in dibattimento perché lì è il contraddittorio che le salva questo dicono le sezioni unite e poi vediamo in quale importante sentenza a proposito di Gaspare Spatuzza che diventa l'argomento degli argomenti e sto parlando la sentenza dell'Utri proprio il giudice di Palermo richiama le sezioni unite 1150 del 2008 ora ci arriviamo perché anche su questo gli avvocati ovviamente facendo bene il mestiere di chi sostiene a discarico le straneità degli imputati non ve lo dicono trovo applicazione solo con riferimento alle dichiarazioni rese fuori dal contraddittorio e non a quelle rese nel corso del dibattimento e noi qui argomentiamo su dichiarazioni rese in fase dibattimentale sulla Aquilina non voglio dire proprio niente non voglio dire proprio niente perché sostenere che la circolarità informativa che caratterizza il narrato di Villani e lo giudice è a circuito chiuso quindi l'uno racconta quello che dice l'altro è assolutamente falso perché il circuito chiuso salta nella misura in cui all'interno di quel circuito tu devi introdurre altri protagonisti di cui avete traccia nella sentenza tra cui chi l'ha per quanto riguarda le conoscenze di Villani su determinati fronti e soprattutto Calabro Giuseppe che è quello che a Villani consolato apre gli occhi su tantissime situazioni senza dimenticare un dato che Villani acquisisce la consapevolezza di quello che c'è dietro agli attentati che lui sta consumando nel corso di incontri diretti con Rocco Santo Filippone ben tre incontri che c'entra l'Aquilina poi certo richiamiamola e proviamoci a dire che la Suprema Corte sul Derelato che riscontra il Derelato e quindi in un inseguimento di Derelato ha dovuto per forza di cose e benvengano fissare una serie di regole vorrei pure vedere omette la difesa di dirvi che Grimaldi Vincenzo che è del tutto al di fuori del circuito dichiarativo che noi stiamo ricostruendo in questo momento dice di aver visto Rocco Santo Filippone insieme ai molepiromalli in varie occasioni proprio in quella masseria dalla quale i vertici della cosca piromalli si sono allontanati per incontrare i siciliani che ovviamente saranno stati di passaggio sull'autostrada e volevano in qualche modo salutare i loro carissimi amici calabresi no per andare Oppido Mamertina a parlare di strage questo dicono i collaboratori di giustizia quindi Oppido Mamertina non è un'invenzione e il legame con Oppido Mamertina è confermato dalle acquisizioni in atti che vanno oltre le dichiarazioni dell'ispettore Zannino perché la polizia di stato ha tentato di trovare ovviamente una serie di conferme su quei riferimenti ad Oppido Mamertina e ai parenti di Filippone perché contrariamente a quello che vi hanno detto gli avvocati adesso non ricordo se il Vianelli o Aloisio pur non essendo obbligati a farlo perché noi siamo in fase di battimentale e in fase di battimentale il pubblico ministero rappresenta lo stato in veste accusatoria ovviamente questo non preclude la possibilità di chiedere come tante volte facciamo delle assoluzioni ma certamente non è sottoposto alla disciplina dell'articolo di cui all'articolo 358 del codice diritto che è una norma che si applica esclusivamente alle indagini preliminari le indagini a favore dell'indagato non dell'infutato ma proprio perché ci piace la trasparenza noi siamo andati ad approfondirlo il dato relativo al potenziale collegamento tra la famiglia Filippone e Oppido Mamertina e in maniera tranquillizzante non l'abbiamo trovato ma certamente a vostra disposizione ci sono tantissimi riferimenti a Oppido Mamertina che provengono da fonti assolutamente distinte e separate che non si auto riscontrano a vicenda e che hanno fonti originarie di conoscenza del tutto diverso quindi quando Nino lo giudice parla di Oppido Mamertina e colloca i graviano e colloca i vertici dell'andrangheta regina e Tirrenica in quegli incontri certamente non apprende la notizia da Vincenzo Primanti e soprattutto non apprende la notizia da Gaetano Albanese il quale ricorda riferimenti precisi in occasione degli incontri anche lui presso la masseria dei molepi Romalli alle riunioni con i siciliani Inmeri Cucco e Oppido Mamertina avesse detto Reggio Calabria dice non avevo in mente niente ho parlato del capoluogo di Provincia l'ho buttata là no Meli Cucco Rocco Santo Filippone Oppido Mamertina Gaetano Albanese andiamo avanti perché se no veramente stravolgiamo anche il senso delle repuche ma da dove risulta che Calabro Giuseppe abbia gravi problemi mentali cioè vi è stato descritto come se fosse un pazzo non mi insulto eppure ho lavorato tanto su Calabro Giuseppe a noi questo davvero non appare in alcun modo e mi pare che non appaia neanche dalla sentenza che voi avete in atti che è la sentenza che poi passa in giudicato a carico di Calabro Giuseppe in cui rileggetela profili di questo tipo non ce ne so la sua esaltazione era criminale come purtroppo va detto quasi tutti i criminali perché la componente legata al sentirsi padroni non solo della propria vita ma anche della vita degli altri genera esaltazione ma non che sia un pazzo è un soggetto criminalmente molto convinto tanto da essere scelto proprio per queste sue caratteristiche esattamente come Villani che lo dice candidamente dice io ho passato periodi di esaltazione totale mi sentivo il padrone di reggio Calabria eccetto visto quella che aveva fatto già da minorenne altro profilo vi ho già detto che il consolato Villani ha parlato tempestivamente di Filippone Rocco Santo quindi anche questo è un dato portato alla vostra attenzione che non corrisponde al vero poi vi dice l'avvocato nel momento in cui discute di queste tematiche che Villani non dice mai che Filippone gli ha dato la Santa e il Vangelo o meglio Filippone vi dice l'avvocato che non risulta che il mandato affidato per la consumazione degli omicidi sia stato percepito da Villani in questi termini e che quindi lui lo abbia così riferito due sono due argomenti distinti e separati intanto Villani non dice che Rocco Santo Filippone gli ha riconosciuto la Santa e il Vangelo Villani dice che quando gli hanno dato la Santa e il Vangelo Rocco Santo Filippone faceva parte della sua copiata cioè rientrava tra il gruppo di garanti di un soggetto che visto quello che aveva consumato stava bruciando le tappe all'interno dell'Andrangheta e questo è un dato di grande rilievo perché Villani è un soggetto legato all'Andrangheta regina e quindi secondo quelle che sono le regole di Andrangheta la sua copiata doveva essere riferibile alle componenti apicali del mandamento di Reggio Calabria di cui la famiglia lo giudice alla quale il Villani appartiene è legata invece nella copiata di Villani c'è Rocco Santo Filippone dato certamente significativo non vi leggo i passaggi delle dichiarazioni del Villani sul punto perché sono sostanzialmente quello che vi ho detto ma vi dico che Villani a un certo punto riferisce relazione al carisma criminale dello zio quanto da lui appreso parlando con Calabro Giuseppe e dice che suo zio riferito a Calabro lui lo descriveva come un mamma santissima a tal punto che poteva interagire con i piromalli con i pesce lo rispettano lo rispettano e interviene se ci sono diciamo contrapposizioni tra di loro un uomo importantissimo come spessore criminale nell'andrangheta guarda guarda caso proprio i piromalli e i pesce per poi spiegare in quelli che sono i passaggi che voi ritrovate nella sentenza come Villani nel corso di quegli incontri con Rocco Santo Filippone comprende che le azioni criminali vanno portate a buon fine e comprende che nel mese di dicembre 1993 succede qualcosa tanto che Filippone convoca Calabro e Villani per dire bisogna fare i morti non bisogna limitarsi ad azioni criminali che provocano soltanto feriti perché con i feriti non otteniamo lo scopo che abbiamo concordato con i siciliani ecco la parte delle dichiarazioni del Villani che dice dopo quell'incontro la determinazione di Calabro Giuseppe è enormemente aumentata l'ho visto più sicuro dice Villani nel senso che era molto più sicuro anche perché lui si faceva trascinare dall'area di Indrangheta a cui appartiene quindi lei lo vede immediatamente più sicuro sì sì lo vedi più sicuro tipo che aveva avuto una protezione ancora maggiore una cosa del genere come se avesse percepito che potevamo andare liberi non lo so nel senso così l'ho visto più determinato ed è la parte che poi ricavate dal narrato di Calabro Giuseppe quando gli viene detto che bisogna fare i morti e chi glielo ha detto Rocco Santo Filippone sostiene il difensore poi che il Villani dice che Calabro non disse mai da chi aveva ricevuto il mandato omiciliare anche qui ho notato e sono andato a leggere perché credetemi tutto è possibile ma anche questo assunto difensivo è falso nella misura in cui è proprio Calabro Giuseppe a dire nel corso dell'interrogatorio del 7 maggio 2014 chi gli aveva dato il mandato e non è vero che parla solo di Antonio Filippone di Antonio Filippone dice che gli consegnò l'arma ma dice anche che Antonio Filippone non aveva il livello di indrangheta per affidargli quel tipo di incarico e dice Calabro Giuseppe tutto questo è avvenuto nel corso dell'incontro con i Filippone che parlavano con i siciliani ed è avvenuto anche dopo quando sono tornato a contatto con i Filippone e mi è stato ribadito che bisognava fare i morti Carabinieri gli dicono in località Acque Bianche i Carabinieri non dei morti qualsiasi e mi ascolti villani ma il fatto di aver utilizzato sempre la stessa arma perché sembra un argomento banale il fatto di aver utilizzato sempre la stessa arma ma non venivate fuori da famiglie di indrangheta e facendo parte di queste famiglie di indrangheta non vi avevano insegnato che le armi sporche vanno immediatamente distrutte e non si devono utilizzare più volte e certo che sì tant'è vero dice Villani che io che non sapevo perché peraltro ero minorenne lo dissi a Calabro ma dice ma che stiamo facendo ma Calabro a cui il cugino Antonio Filippone aveva detto spara con questa ovviamente risultava un altro tipo di indicazione doveva sparare con quello ecco dice Villani ragione del fatto che dovevamo usare la stessa arma perché dovevamo apparire diciamo doveva apparire un attentato terroristico non uno dei tanti assalti ad una pattuglia no doveva risultare chiaro che stavamo facendo altro non è contestato il delitto di strage caro avvocato e lo sappiamo benissimo è contestato un gravissimo fatto di sangue abbinato ad altri due gravissimi fatti di sangue in cui altre quattro persone non muoiono per eventi assolutamente imprevedibili e accidentali agli occhi dei killer che si inseriscono in un programma stragista perché se avessero sparato alla pattuglia dei carabinieri che passava la rotatoria davanti alla gelateria Cesare quando al primo sole davanti a Cesare ci sono 300 persone sarebbe stato contestato il delitto di strage ma non è accaduto questo ma non per questo non è un evento stragista nel senso gli dice il pubblico ministero che vuol dire che dovete fare un attentato terroristico bisognava lasciare una firma sì bisognava firmare gli agguati tant'è vero che io dissi a Calabro ma scusa cambiamo arma che stiamo facendo no dobbiamo firmare in un certo modo disse lui perché bisogna capire la strategia stragista che c'è sotto evidente e quindi il messaggio doveva essere quello sì doveva essere quello senta ma quando lei ha percepito che Calabro non voleva cambiare arma perché non gli ha chiesto ma spiegami meglio cosa c'è sotto quello che stiamo facendo è mai possibile gli dice il pubblico ministero che lei non abbia chiesto non abbia chiesto a Calabro senti mi spieghi meglio che cosa stiamo facendo perché stiamo rischiando abbondantemente l'ergastolo lui certamente da minorenne no ma Calabro assolutamente sì non cercai mai di approfondire risponde Villani questo discorso anche perché da parte sua io vedevo che c'era un muro lui aveva ricevuto un ordine ed eseguiva quell'ordine io lo affiancavo nell'esecuzione di quell'ordine mi spiegava solo quello che si doveva fare quello che si doveva organizzare come dovevamo farlo punto con maggiore determinazione dopo l'incontro del dicembre 93 e poi arriviamo a Giuseppe Graviano e a quel 17 dicembre del 93 perché lo zio era una potenza nell'andrangheta era un mamma santissima era uno che contava moltissimo e soprattutto la famiglia dello zio distribuiva armi aveva un sacco di armi aveva Kalashnikov aveva armi diverse tant'è vero che ci consegnarono anche altre armi nel corso di un incontro Antonio Filippone questo in Melicucco lei sta dicendo che Filippone Rocquosante è un mamma santissima sì è un mamma santissima ma lo sapevano in pochi quanto era importante ma era un mamma santissima che aveva a che fare con il vertice dell'andrangheta lui aveva a che fare con poche persone aveva a che fare sì con il vertice dell'andrangheta il vertice dell'andrangheta dice Villani era un circuito chiuso e da chi era costituito questo vertice dell'andrangheta a Reggio erano i De Stefano i Condello e i Tegano poi c'erano i Piromalli i Pesce i Bellocco poi i Papalia i Sergi in Irta gli Strangio questi erano i più importanti dell'andrangheta e Rocco Santo Filippone era legato a loro per poi precisare e allora dice le cariche speciali all'epoca che ricopriva Rocco Filippone che gli era stato dato dal vertice dell'andrangheta era quello di Capo Mandamento Tirrenico quindi parliamo di un personaggio che è importantissimo rappresentava anche i Piromalli senta e mi spieghi anche un'altra cosa perché dobbiamo alcune dinamiche d'indrangheta chiarirle come vai avete sparato a Bagnara beh dice io ricordo abbastanza non posso dimenticarvi certi momenti niente Calabro mi dice ci vediamo dice e ci organizziamo dobbiamo organizzarci stavolta però faremo un agguato diverso mi spiegò che doveva avvenire sull'autostrada e mi disse che doveva avvenire tra Bagnara e Scilla nella vecchia piazzuola dove facevano ricognizione le forze dell'ordine mi disse non la facciamo più qua a Reggio ci spostiamo altrove e perché a Bagnara e non a Scilla lui disse proprio Bagnara nella piazzuola di Bagnara ma per caso perché Bagnara è mandamento tirrenico assolutamente sì dottor Lombardo proprio perché dovevamo sparare nel mandamento tirrenico l'omicidio doveva essere consumato lì poi a seguito del terzo viaggio a casa Filippone e quindi dopo il terzo attentato ci siamo incontrati con il figlio di Rocco Filippone e non con lui il quale ci ha consegnato delle armi e solo dopo quell'incontro del febbraio del 94 Calabro mi disse fermiamoci partite fate fermateci questo racconta il nostro consolato villani su quelli che sono i profili di coinvolgimento di Rocco Santo Filippone nelle dinamiche ricostruite nella sentenza di primo grado e lo dice con una dovizia di particolari che ci consente di andare oltre le informazioni che apprende dallo giudice Antonino in quanto le informazioni che apprende dallo giudice Antonino sono soltanto una parte del suo bagaglio conoscitivo come vi ho detto prima lui si confronta anche con Giovanni Chilà ma si confronta soprattutto con quello che è il protagonista principale delle azioni in senso stretto e cioè Calabro Giuseppe e andiamo oltre vi viene detto che non c'è nessuna sentenza passata e giudicato che conferma quanto si sta ricostruendo in questa sede vero ma non vi è stato detto che non c'è nessuna sentenza perché Galassia non è questo che sia passata in giudicato sulla mancata adesione della strategia stragista perché tutta la ricostruzione che si fa in Galassia è assolutamente ancillare come dice l'avvocato Stajano su altri temi su altre tematiche assolutamente eccentrica rispetto a quello che si sta facendo nel corso di questo processo nella misura in cui avete visto qual era l'inquadramento che era stato dato ai vertici assoluti dell'Andrangheta certo che è in Galassia che si fonda sulle dichiarazioni di alcuni collaboratori di giustizia che hanno una precisa estrazione territoriale si affrontano determinate tematiche come altrettanto certo è che quelle tematiche sono tematiche accessorie rispetto alle dinamiche criminali proprie di quei territori che si affrontano è soprattutto certo il fatto che il triunvirato quando ha comunicato come dice Franco Pino una direttiva non lo ha fatto consultando dei soggetti che sono posti allo stesso livello dei deliberanti ma lo ha fatto come spiega Nino Fiume per il rispetto della forma il rispetto della forma perché all'interno di un'organizzazione come l'Andrangheta la forma va rispettata ma lo ha fatto esattamente come dice Nino Fiume e di tutto questo in Galassia non c'è proprio traccia nel momento in cui era necessario adottare una serie di cautele che se passavano dal rispetto della forma non dovevano in alcun modo compromettere la sostanza ecco perché Nino Fiume quando parla dei racconti di Giuseppe De Stefano vi parla di falsa politica ma contrariamente a quello che sostengono le difese la falsa politica non è verso l'esterno dell'organizzazione cioè il non dire quali decisioni si siano assunte quali strategie si intendano adottare non riguarda gli estranei al circuito criminale la falsa politica viene spiegato dal collaboratore Fiume e da altri collaboratori di giustizia e verso l'interno dell'organizzazione perché verso l'esterno basta la segretezza e verso l'interno che bisogna disinformare ed è esattamente questa la disinformazione che è stata attuata ed è esattamente questo il senso di quei passaggi dichiarativi di Franco Pino che oggi porta alla vostra attenzione l'avvocato Aloisio quando vi dice in quei verbali la decisione in realtà non è stata assunta è certo che non è stata assunta perché nel corso dell'incontro del Sayonara non bisognava assumere nessuna decisione nel corso dell'incontro del Sayonara per chi di quei soggetti di Indrangheta aveva la capacità di comprendere è stato detto abbiamo deciso Luigi è un po' dubbioso ma i suoi dubbi cedono il passo all'essere parte del triunvirato abbiamo deciso non è una proposta che vi stiamo facendo quindi quando Franco Pino dice ma non abbiamo votato abbiamo mangiato ci hanno convocato lì c'era Luigi Mancuso che faceva determinati discorsi ma poi si è alzato Nino Pesce e ha detto si aderisce alle stragi ciao mangia che c'è un banchetto predisposto per te e tornate da dove sei venuto questo è successo certo che questo è successo è evidente e questo significa esattamente l'opposto rispetto a quello che sostengono le difese che nessun voto ci doveva essere e proprio perché nessun voto ci doveva essere la decisione è stata presa dal triunvirato tirrenico che adornato oggi ci dice era stato messo nelle commissioni stragi punto ad un certo punto per tornare alla consumazione di quei reati vi diceva oggi l'avvocato contestabile che non hanno caratteristiche eclatanti che in qualche modo possano immediatamente essere comprese come attuative di una strategia stragista e abbiamo visto che Villani consolato però dice attenzione che il mitra sempre lo stesso agli occhi dei carabinieri che quel mitra utilizzano per ragioni di servizio è un messaggio evidentissimo perché la prima cosa che andranno a fare sarà la comparazione balistica tra i reperti e capiranno che abbiamo sparato apposta sempre con la stessa arma primo argomento quindi non serve a mettere le bombe visto che l'andrangheta ovviamente ha detto sì ma è rimasta assolutamente libera di agire come riteneva e così è stato ma il messaggio non è la modalità dell'azione che comunque ha certe caratteristiche il messaggio è falange armata e il messaggio di rivendicazione falange armata arriva ai carabinieri di Poliste e ce lo avete in atti è lì che chi doveva capire ha capito qual era il motivo vero di quelle azioni violente è falange armata la chiave di lettura ecco perché era necessario integrare istruttoria e portare all'attenzione del giudice un contenuto straordinariamente importante come il dichiarato di Schettini dichiarato di Schettini che inserisce falange armata guardacaso all'interno di un determinato circuito già ricostruito in altre sentenze non di questa autorità giudiziaria Firenze e Caltanissetta soprattutto ma anche la sentenza trattativa a Palermo in cui il linguaggio stragista è molto più sofisticato delle semplici bombe o delle azioni delittuose commesse ecco a cosa serve Schettini a dire signori noi abbiamo sentito parlare di falange armata da soggetti che insieme a noi consumavano una serie di gravissime condotte delittuose nel momento in cui spartivano insieme a noi i soldi riservati a pannaggio dei servizi di sicurezza a partire dalla torbidissima stagione dei sequestri di persona quando c'è stato detto smettetela perché la politica centrale non gradisce più e non tollera ci dissero anche non vi preoccupate finisce un progetto criminale e ne inizia un altro il prossimo progetto criminale avrà un nome ben preciso guarda caso quel nome che poi Rina eredita da Mirko Papalia e che diventa la chiave di lettura di tutta una serie di accadimenti come ci raccontano i collaboratori siciliani e come bene ci dice in un'immagine plastica Tullio Cannella quando davanti alla televisione del villaggio Euromare nei pressi di Cefalù assiste alla triste cronaca di quei giorni e sente dire a Leo Luca Pavarella ora vedrai che diranno che tutto è stato rivendicato falange armata questa è la storia se poi la storia ci fa paura perché diventa particolarmente significativa a livello giudiziario non è un problema mio questa è la storia ancora la difesa filippone diceva dove sono gli altri dove sono gli altri mandanti di questo omicidio dice ma certamente per l'inquadramento che si dà a questi accadimenti ci devono essere mandanti ulteriori rispetto a Rocco Santo Filippone ebbene sì avvocato sì è così e questo mi pare che lo abbiamo sempre sostenuto ma abbiamo sostenuto che ci siano mandanti ulteriori rispetto a Rocco Santo Filippone con una veste che Rocco Santo Filippone non aveva proprio perché nonostante la sua alta collocazione criminale risultava già evidente da quello che in atti era presente ancora prima dell'intercettazione adornato Ferraro non paragonabile a chi gli stava sopra perché Rocco Santo Filippone è il mandato prossimo che è cosa diversa dal mandato remoto e quindi in una stratificazione di mandati qui lo processiamo in questo ruolo in attesa di processare gli altri e quelli che stanno sopra di loro e che li hanno messi là abbiamo proprio una stratificazione di mandanti da quello che risulta sufficientemente chiaro ancora ma dici in un quadro così serio in un quadro di accordi con la componente siciliana è mai possibile pensare quale argomento ha carico che la fase esecutiva possa essere affidata a due ragazzini io non so se l'attività criminale del cosiddetto azionista cioè quello che commette le azioni possa essere in qualche modo paragonata all'attività di uno sportivo non occasionale non lo so ma sono relativamente convinto che sia così chi chi è che svolge l'attività agonistica il vecchio o il giovane chi è che deve avere una prontezza di azione nel momento in cui è incaricato di eseguire nei confronti nei confronti di appartenenti all'arma dei carabinieri delle azioni di fuoco dalle quali non bisogna risultare coinvolti il vecchio il vecchio o il giovane quale viziologico c'è nell'aver affidato a Calabro Giuseppe e Villani consolato uno poco più che maggiorenne uno ancora per poco minorenne un'azione di fuoco che doveva essere caratterizzata da un dinamismo spinto e cioè gente che guida un'autovettura e spara non il cecchino dalla finestra che si apposta dopo aver fumato un sigaro e aver bevuto una una bibita rilassante e attende per ore la sua vittima no affiancamento dinamico andate a vedere nelle sentenze che riguardano Calabro e Villani come quei giudici ricostruiscono le fasi esecutive degli agguaggi affiancamenti seguiti per un sacco di tempo bisognava guidare la macchina molto bene con dei riflessi molto pronti e poi far capire che non era un caso che si stavano seguendo quelle pattuglie e poi affiancarle e poi superarle e poi uno sparava sul motore e l'altro faceva i morti questo si dice nelle sentenze e a chi lo vogliamo affidare questo compito a gente assolutamente capace di farlo soprattutto perché è già testata per quanto riguarda Calabro Giuseppe e lo stesso Villani e quindi definirli ragazzini è un insulto per le vittime che non sono morte per mano di due ragazzini sono morte per mano di un'organizzazione criminale complessivamente considerata che di morti ne ha fatti migliaia in quel momento storico Calabro era il meglio che si potesse scegliere era il nipote di Rocco Santo Filippone era abbinato da tempo ad un altro soggetto particolarmente capace come Consolato Villani non c'era proprio altro da cercare e soprattutto c'era la possibilità di ottenere il risultato che per circa 25 anni è stato ottenuto di far credere che due esaltati per motivi non meglio precisati avevano deciso incredibilmente di passare una buona fetta della propria vita in carcere questo è stato fatto credere per molti anni è certamente difficile immaginare che questo tipo di conclusione si poteva raggiungere inserendo in quella fase esecutiva personaggi di altra caratura criminale perché l'andranca da sempre così ha fatto che cosa diceva Franco Pina prima noi ci mimetizziamo dice non la guerra aperta e no che diceva Luigi Mancuso io la guerra aperta non la voglio fare se tu mi fai mettere 200 kg di tritolo sotto il viadotto voglio dire che collega bagnare a scilla e quella è guerra aperta io non la voglio la guerra aperta perché facciamo altri morti noi dobbiamo colpire in maniera chirurgica aderire alla strategia stragista e soprattutto mandare un messaggio univoco a chi? ai carabinieri perché noi destabilizziamo colpendo l'arma dei carabinieri e non è necessario far saltare in aria una caserma perché la nostra logica criminale si è sempre fondata su altre regole bene dice Franco Pina e si sono mimetizzati benissimo attraverso Calabro e Villani esattamente come volevano raccontando per anni menzogne ve lo dicevo prima e sono al punto 25 quasi finito su Calabro la tesi difensiva che tenta di indebolire questo tipo di ricostruzione lo fa con argomenti fuorvianti omettendo di dirvi perché vi hanno detto invece il contrario che la base di partenza della ricostruzione che si porta avanti non sono le dichiarazioni di Villani e lo giudice ma è la missiva di Calabro a Piero Grasso le sue dichiarazioni confessorie e soprattutto l'apporto dichiarativo di Villani e lo giudice dopo che Calabro ha rivelato quello che c'è dietro non sapremo mai senza l'iniziativa di Giuseppe Calabro se oggi qui sarebbe stato mai possibile approfondire il portato dichiarativo di Villani e lo giudice non lo sapremo mai non sapremo mai se fosse stato mai possibile stare qui insieme a voi ad ascoltare il contenuto confessorio così chiaro e significativo ove non ci fossero stati vari colloqui investigativi questo non lo sapremo mai ma non siamo chiamati a fare questo siamo chiamati qui a verificare insieme se l'aver svolto quei colloqui investigativi ha consentito di acquisire informazioni processualmente utilizzabili e di questo gli avvocati non vi parla quei colloqui investigativi hanno sbloccato tutta una serie di elementi di conoscenza e nessuno mai si è nascosto su questo nessuno mai ha privato voglio dire di elementi di conoscenza ai giudici che si occupano di questa vicenda così complicata del fatto che come ho detto tante volte e l'ho ribadito anche all'inizio della requisitoria in grado di appello l'indagine nasce sulla base di un atto di impulso del procuratore nazionale antimafia che raccoglie informazioni che provengono da colloqui investigativi sono dietati no possono essere utilizzati a fini di prova no è un atto interno su cui si innesta l'investigazione e quell'atto interno su cui si innesta l'investigazione ha consentito di arrivare qui dove siamo oggi ecco svelato il motivo per cui Calabro Giuseppe afferma determinate cose e affermate determinate cose da Calabro Giuseppe a ruota seguono i contributi di Villani e di Lo Giudice che si prende tanta paura per aver svelato quello che non aveva detto da scappare gambe levate dalla località protetta quello che rileva in quella sede è che perché i protagonisti di quella vicenda hanno parlato e hanno detto tutto quello che non risultava noi siamo chiamati qui a verificare se quel narrato ha trovato elementi di conferma e mi pare di poter dire con tranquillità che quanto detto da Calabro preo confesso per quello che è il verbale negli altri Villani e Lo Giudice ha trovato ampio riscontro negli accertamenti che il pubblico ministero ha svolto nel corso delle indagini nel corso del processo di primo grado e nel corso di questo dibattimento perché le loro rivelazioni sono perfettamente concatenate sono per lunghi tratti sovrapponibili a meno di voler sostenere l'assurda tesi che ho sentito purtroppo anche nel corso di queste arringhe difensive che vuole attribuire effetti demolitori in relazione allo giudice Antonino per aver parlato di oppido Mamertina e degli interessi dei Filippone senza aver trovato conferma che i Filippone avevano interessi in quel territorio nella piena consapevolezza però che ovviamente gli avvocati non portano la vostra attenzione che oppido Mamertina effettivamente è stato evocato in relazione agli incontri con i siciliani da altri collaboratori di giustizia che avevano un rapporto strettissimo proprio con i piromalli mole mancoso non è assolutamente vero che Calabro Giuseppe ha subito collaborato con la giustizia per paura è falso è falso non perché lo dico io ma perché lo dice lui dice Calabro Giuseppe il 7 maggio del 2014 io ho collaborato per depistare eccola la tecnica raffinata di chi sceglie i ragazzini che si possono prestare a questo tipo di gioco nell'accezione di cui parla l'avvocato Stajani per un attimo ho temuto che mi stesse dicendo in maniera elegante che avevo giocato per troppi anni lo so bene che non è così e lo so bene che l'avvocato Stajani non voleva dire questo e so bene che l'avvocato Stajani utilizza il termine gioco esattamente nella stesso identico significato in cui quel termine lo utilizzava Giovanni Falcone si muore perché si è entrati in un gioco troppo grande diceva Giovanni Falcone quello è il termine gioco che noi dobbiamo utilizzare se proprio dobbiamo usare questa parola in una sede come l'aula del dibattimento dice ho iniziato a collaborare per depistare lo confessa da lui nel corso dell'interrogatorio del 7 maggio 2014 evidenziando proprio in quel passaggio dichiarativo le disposizioni che aveva avuto dal Filippone e la paura che subito il cugino Antonio gli ha manifestato che si potesse risalire proprio a loro devi depistare Giuseppe perché se non vai a depistare faranno 2 più 2 4 e capiranno immediatamente che tu hai avuto un vecchio rapporto con la coscalatella ma che sei soprattutto il nipote di Rocco Santo Filippone e di Rocco Santo Filippone stai attento caro Giuseppe che troveranno traccia in atti giudiziari anche se quegli atti giudiziari non sono mai diventati processi come avete sentito da Michele Di Stefano perché sai la prima cosa che fanno i carabinieri a cui hai sparato contro qual è andranno a prendere il tuo fascicolo personale e dal tuo fascicolo personale risulterà che sei figlia di Marina Filippone sorella di Rocco Santo già indicato in varie informative dei carabinieri Zaurianova come un soggetto di peso all'interno del circuito Piromalli e faranno due più due quattro e arriveranno a noi e questo Antonio Filippone glielo dice subito al cugino e lo trovate nelle sue dichiarazioni acquisite agli atti del dibattimento e non aveva paura proprio di niente Calabro Giuseppe perché Calabro Giuseppe sapeva perfettamente quello che doveva fare e lo ha fatto fino in fondo ecco perché Calabro Giuseppe il 7 maggio del 2014 non ha calunniato nessuno contrariamente a quello che si sostiene a discarico e lo si capisce dalla lettura integrale del suo interrogatorio lettura integrale ma aggiungo di più ascolto integrale del suo interrogatorio che probabilmente dico probabilmente in pochi hanno fatto sentitelo come parla Calabro Giuseppe e nell'inflessione che utilizza Calabro Giuseppe poi cercate di trovare intenti calunniatori Calabro Giuseppe quel giorno vive probabilmente la giornata più drammatica della sua vita certamente peggiore rispetto a quelle da lui già vissute per aver consumato quei gravissimi fatti di sangue e Calabro Giuseppe questo le difese non ve lo dicono il giorno dopo scrive al pubblico ministero per dire caro dottore io ho tantissime altre cose da dirle venga e vengo per la verità a tempio Pausania posso venire a nuoto vengo certo solo dopo questa iniziativa di Calabro Giuseppe che deve essere considerata e che risulta adeguatamente valutata nella sentenza di primo grado Calabro Giuseppe viene preso dalla paura solo lì però non quando collabora negli anni 90 dopo aver consumato gli attentati e danni dei carabinieri come non è assolutamente vero e ho finito sul punto che in quel verbale legittimamente acquisito Calabro Giuseppe parla solo di Totò Filippone non è vero e non è vero perché lui parla con un linguaggio diverso rispetto al cugino anche di Rocco Santo Filippone mantenendo e quella è la dimostrazione della consapevolezza del Calabro di quale sia il livello criminale dello zio un atteggiamento di prudenza nel riferire i compiti dello zio e soprattutto il mandato omicidiario che non utilizza nei confronti del cugino ha paura di Rocco Santo Filippone certo che ha paura e che abbia paura di Rocco Santo Filippone consapevole di quello che è Rocco Santo Filippone per come racconta a consolato Villani lo dimostra il fatto che quando la madre gli parla di famiglia lui si rimangia tutto con molta semplicità questo è avvenuto nella mente di Calabro Giuseppe e andiamo alla posizione Graviano è singolare devo dirvi la verità Presidente facciamo 5 minuti facciamo 5 minuti 5-10 minuti che poco hanno a che fare con il tema di prova di questo processo e che ruotano intorno che ruotano attorno alla lunghissima carriera criminale di Giuseppe Graviano ampiamente approfonditi nel corso dei vari processi a cui il Graviano è stato sottoposto caratterizzate quelle argomentazioni difensive da una diversa lettura di tutta una serie di accadimenti che si pongono in contrasto con le ricostruzioni processuali e che a mio modo di vedere non possono fare ingresso in questa sede se non rimuovendo le statuizioni passate in giudicato per essere più chiaro i rapporti Spatuzza-Graviano la vicenda contorno il perché Tranchina abbia narrato versioni in parte diverse davanti ai tanti giudici che lo hanno ascoltato non ritengo siano argomenti sui quali in questa sede si debba replicare proprio perché sono tutte risposte quelle acquisiti che i difensori hanno già posto in altre sedi e che hanno avuto ampie argomentazioni da parte dei giudici competenti perché non è questo il compito che noi oggi dobbiamo sostenere in questa sede ci sono invece altre considerazioni che hanno ricadute immediate nella ricostruzione che si porta qui alla vostra attenzione e ovviamente su quelle cercherò brevemente perché davvero sto perdendo la voce di far emergere una serie di argomenti che le difese hanno evitato di affrontare no no ho bevuto ho bevuto presidente purtroppo intanto vi dico che è singolare la linea difensiva di Graviano è singolare nella misura in cui i difensori di Graviano interloquiscono con la Corte omettendo di dire che questo processo rispetto ad altri a una chiave di lettura del tutto originale che è l'apporto dichiarativo diretto di Giuseppe Graviano rendere l'esame e in più occasioni rendere spontanee dichiarazioni non è un esercizio informativo a favore del giudice e delle parti da considerare privo di rilevanza processuale per essere più chiaro Graviano non ha parlato di argomenti riferibili al suo vissuto criminale che non abbiano fornito elementi di conoscenza ulteriori rispetto a quelli già disponibili e che non abbiano quindi integrato un bagaglio conoscitivo nella disponibilità del giudice non ha rilasciato un'intervista Graviano sottoponendosi all'esame non ha rilasciato opinioni personali prive di rilievo effettuando più interventi nel corso del processo sotto la forma di spontanee dichiarazioni Graviano ha detto ha parlato ha analizzato ha riferito fatti e circostanze che assumono peso all'interno dell'istruttoria dibattimentale e che devono essere ovviamente approfonditi unitamente a tutto il materiale ulteriore di cui il giudice dispone ecco perché dico è singolare quanto le difese portano alla vostra attenzione in relazione alla posizione di Giuseppe Graviano perché utilizzano argomenti come se Graviano non avesse parlato accanto a quello che Graviano ci ha spiegato e quindi accanto alla portata dimostrativa di una scelta libera che Graviano ha fatto e cioè una scelta che passa dall'inserimento di dichiarazioni sui fatti del processo i difensori bypassano totalmente il contenuto che proviene dalle intercettazioni con Adinolfi io non ero presente il giorno in cui hanno discusso l'avvocato Loisio e l'avvocato Vianelli era presente qui il collega Ignazitto sono stato fatto destinatario di un elenco corposo di argomentazioni e sinceramente ho notato subito una cosa come in primo grado nel corso della ringa difensiva su alcuni argomenti non ci si è soffermati esattamente è avvenuto in appello esattamente come era avvenuto in primo grado sono state portate alla vostra attenzione in relazione alle intercettazioni Graviano Adinolfi una serie di informazioni distorte che sono state smentite da Giuseppe Graviano nel corso del suo lungo esame davanti alla corte d'assise ancora una volta gli avvocati hanno ritenuto di argomentare al fine di indebolire la costruzione del pubblico ministero sul fatto che tutta una serie di apporti dichiarativi possibili non sono stati ammessi ancora una volta lo hanno fatto dimenticando che quegli apporti dichiarativi che loro considerano particolarmente rilevanti io non li ho mai trovati inseriti nella lista testi non ci sono ancora una volta gli avvocati tornano in relazione a quello che dovrebbe essere il corretto inquadramento dei rapporti contorno Graviano e anche qui ritrovo una serie di singolari considerazioni ove queste considerazioni voglio dire siano in qualche modo integrate da quella che è la memoria di Giuseppe Graviano a conclusione del giudizio di primo grado che è in atti sui rapporti tra i palermitani e l'andrangheta è come se l'istruttoria non ci fosse stata è come se l'istruttoria di primo grado e anche quella fatta in questa sede non avesse dimostrato che in relazione a organizzazioni criminali pluridecennali certamente con attività tracciabili ancora prima del secolo scorso invece ci si trovi al cospetto di organizzazioni criminali che hanno una storia relativamente breve che non ha passato tutta una serie di tappe evolutive che non ha trasformato non solo le dinamiche interne ma ovviamente anche la propria struttura e che non ha cambiato spesso e volentieri tutta una serie di prospettive anche nel rapporto con componenti riferibili ad altri territori per essere più chiaro ancora una volta vi viene sostanzialmente detto che se l'andrangheta calabrese nelle sue componenti apicali per molti anni ha avuto rapporti con i palermitani non può avere rapporti con i corleonesi e sinceramente se io mi devo confrontare con questi contenuti è come se fossi chiamato a confrontarmi con un fascicolo per il dibattimento praticamente vuoto ma non è così e quindi torno a quello che ha detto all'inizio delle repliche confrontiamoci su tutto ma partiamo da dati reali ci sono decine di collaboratori in atti che dicono dei rapporti tra i corleonesi di Rina e quella che è la componente riferibile ai fratelli Graviano per i Piromalli e non ho bisogno di richiamare qui per l'ennesima volta che la tesi difensiva che invece svuota totalmente di rilievo questo tipo di acquisizioni crolla miseramente di fronte ai contatti Lupo Gioacchino Piromalli a quanto lungamente ha illustrato la polizia giudiziaria in primo grado ma anche in questa sede attraverso l'escussione del dottore Di Stefano e a quanto afferma con chiarezza Fabio Tranchina a quanto affermano con chiarezza tutti quei collaboratori di giustizia l'ho già detto e davvero lo farò spero in questa sede per l'ultima volta quei collaboratori di giustizia a conoscenza delle dinamiche prossime alla figura di Leo Luca Bagarella nel momento in cui introducono riferimenti costanti al fatto che i contatti con la Calabria erano affidati ai Graviano e a Giuseppe Graviano in particolare come se non avessimo vissuto in alcun modo l'integrazione che si è fatta in questa sede introducendo negli atti nella disponibilità della Corte l'apporto dichiarativo di Gerardo D'Urso ci siamo totalmente dimenticati salvo che per dire che D'Urso determinate cose non le poteva sapere va bene non le poteva sapere e quindi il fatto che le abbia sapute non ha superato il fatto che non le potesse sapere noi non dobbiamo confrontarci con quello che potrebbe essere noi dobbiamo confrontarci con quello che è e noi agli atti abbiamo introdotto perché D'Urso è deceduto quello che D'Urso ha vissuto a contatto peraltro proprio con esponenti apicali della Cosca Mancuso che parlano di riunione con Graviano Giuseppe in tema di stragi come se non ci fosse ancora una volta e qui farò un richiamo un po' più corposo perché credetemi lo dice lo stesso Avvocato Aloisio nel corso del suo intervento il cuore dell'argomentazione difensiva è spatulosa e che cosa vi dice che l'attendibilità di spatulosa ancora prima di entrare nel merito di tutta una serie di passaggi che poi in parte lo smentiscono perché se spatulosa è del tutto inattendibile e allora non è il caso di andare a verificare quello che nel dettaglio dice spatulosa ad esempio relazione all'epoca in cui bisognava consumare l'attentato all'Olimpico quando sposta quello che doveva essere un fatto da consumare in epoca immediatamente antecedente all'estate del 93 al gennaio 94 senza considerare che ove così fosse cosa nostra che non è una banda di soggetti senza testa era pronta a organizzare un attentato nei pressi dello Stadio Olimpico di Roma a campionato finito perché lì il riferimento è tra fine maggio e giugno 93 il campionato finisce proprio il 2 il 3 o il 4 giugno di quell'anno non me lo ricordavo sono andato a controllarlo e vabbè ora ci arriviamo allo spatuzza che sposta prima parliamo diciamo dello spatuzza credibile soggettivamente è attendibile per la montagna di riscontri che avete in atti e che a parere della difesa Graviano è invece frutto di valutazioni errate nella misura in cui l'unica valutazione da tenere in considerazione è quella che si ricava dalla sentenza dell'Utri che però non vi cita e ve la cito io non vi cita nel dettaglio nella misura in cui ci sono una serie di considerazioni che devono essere conosciute in relazione al processo dell'Utri apro e chiudo la parentesi processo dell'Utri antecedente e immune dall'apporto dichiarativo di Giuseppe Graviano di cui abbiamo beneficiato solo noi e di questo vorrei che rimanesse traccia chiara solo noi e allora Spatuzza noi sappiamo perfettamente che cosa hanno detto i giudici nella sentenza dell'Utri e sappiamo bene che il dubbio sull'attendibilità dello Spatuzza ruota attorno all'atteggiamento di Graviano quando questi annuncia a Spatuzza di avere il paese nelle mani era gioioso in modo incompatibile con la sua precaria condizione di latitante questo è l'argomento che viene utilizzato anche in questa sede per dire attenzione non prendete il dichiarato di Spatuzza per quello che sembra ma cercate di approfondirlo rispetto a una relazione che Spatuzza ha con gli esponenti di vertice del mandamento di Brancaccio che non è quella che racconta lui perché lui determinate cose non le sa perché lui non è soggetto contrariamente a quello che dice in possesso di confidenze tali da poter fare queste affermazioni a carico di Graviano e soprattutto non è vero quello che dice Spatuzza quando si descrive come un uomo vicinissimo a Giuseppe Graviano nel processo dell'utri pagina 261 e seguenti di quello che è l'intervento del pubblico ministero si legge comunque sia prescindendo dal merito del procedimento ciò che va osservato è che lo Spatuzza optava per la definizione del giudizio nei suoi confronti con le forme del giudizio abbreviato e veniva condannato alla pena di 15 anni di reclusione previo riconoscimento della speciale attenuante di cui è l'articolo 8 della legge 203 del 1991 oltre che delle circostanze attenuanti generiche prevalenti sulla contestate aggravanti confronta sentenza del GUP presso il Tribunale di Caltanissetta numero 36 barra 13 del 13 marzo 2013 pronunciamento divenuto ormai irrevocabile nei confronti dello Spatuzza primo dato l'inattendibilità dello Spatuzza così come è stata portata alla vostra attenzione non esiste perché ci sono sentenze passate in giudicato che dicono che Gaspar e Spatuzza è collaboratore altamente attendibile in quella sede il giudice così argomentava sull'attendibilità intrinseca dello Spatuzza attenzione svolgendo anche delle pertinenti osservazioni sulle tanto contestate dichiarazioni accusatorie dello Spatuzza a carico di Marcello Dell'Utri tanto contestate orbene la valutazione della Corte di Appello di Palermo avanti richiamata merita alcune considerazioni cioè la sentenza Dell'Utri in primo luogo deve essere rilevato che il giudizio della Corte è stato fondato su dati parziali rispetto a quelli di cui si ha la disponibilità in questa sede perché non erano stati acquisiti tutti i verbali relativi agli interrogatori resi dallo Spatuzza alle procure che ne seguivano la collaborazione e non vi viene detto inoltre per quanto riguarda e torniamo all'asterita volazione dell'articolo 16 quater della legge numero 8 del 91 sia l'ufficio di procura sia il GIP nei ridetti provvedimenti cautelari evidenziavano che tale disposizione ha formato oggetto le sezioni unite 1150 del 2008 beh in tale occasione il massimo giudice ha assolutamente superato le obiezioni difensive dicendo che visto che le dichiarazioni erano intervenute in fase dibattimentale stavamo discutendo del nulla non vi è stato detto che c'è un giudice che supera la parziale inattendibilità di Spatuzza ma di tutto questo avete traccia in atti e soprattutto nel giudizio di secondo grado questo tipo di traccia deve essere approfondita e considerata e quindi ritengo che sia assolutamente doveroso segnalarvelo in sede di replica punto 7 Spatuzza insiste troppo dicono le difese in relazione al suo presunto rapporto di fratellanza con Graviano ma non è che insiste Spatuzza o che Spatuzza è venuto in questa sede a fare una ricostruzione in relazione a quello che è il rapporto strettissimo che lui ritiene di aver avuto con Giuseppe Graviano in maniera disallineata rispetto a quello che ha sempre raccontato non è Spatuzza dire che tra lui e Giuseppe Graviano c'è un rapporto strettissimo che possiamo considerare di fratellanza ma questo lo dicono tutti i giudici che hanno avuto modo di confrontarsi con questa relazione e con quanto Spatuzza riferisce in relazione ai suoi rapporti con Graviano parlano proprio di rapporto talmente stretto tanto da sembrare fratelli decine di sentenze avete in atti sentenze definitive che non richiedono a mio modo di vedere perché davvero diventeremmo stancamente ripetitivi che davvero non richiedono un'analisi specifica rispetto a passaggi che ovviamente adattati alle singole vicende processuali però hanno un tessuto argomentativo comune e allora quello che le difese fanno su questo punto mi sembra un tentativo a volte con poco senso di superare vent'anni di storia giudiziaria che si pone in pacifico evidente contrasto con quello che è il disposto degli articoli 236 e 238 bis del codice diritto perché questo è il peso che si attribuisce alle sentenze passate in giudicato apro e chiudo parentesi lo stesso peso che si deve attribuire alla sentenza a carico di ciccio adornato chiusa parentesi mai nessuno ha sostenuto altro non esisteva il 416 bis è stato processato e condannato per 416 sappiamo perfettamente che quella era l'unica norma che si poteva utilizzare se quella sia andrangheta o no indipendentemente dal fatto che ci sia il bis o no lo stabilirà la corte quindi in presenza di considerazioni definitivamente ricavabili da sentenze passate in giudicato come ho cercato di dire stamattina non abbiamo più spazio per opinioni personali parliamo di risultati probatori da valutare sulla base di accertamenti giudiziari definitivi da lì dobbiamo partire e su tale tipo di percorso dobbiamo innestare il lavoro di valutazione che voi siete chiamati a fare l'ho già detto e lo ripeto per mettere in discussione le conclusioni a cui quei giudici sono giunti con le sentenze definitive in atti c'è un solo strumento nel nostro sistema quello disciplinato dagli articoli 629 e seguenti del codice diritto azioniamolo ove ci siano i presupposti senza azionare quello strumento la sentenza definitiva fa prova sempre all'interno richiamo l'avvocato contestabile perché mi è piaciuto quel suo riferimento all'adornato giurista all'interno del principio cardine del nostro sistema e cioè il libero convincimento del giudice mi pare evidente automatismi probatori non ne abbiamo ma abbiamo plurime sentenze definitive sapete dove la trovate la prova finale già ampiamente valorizzata di quello che è davvero il rapporto tra Gaspare Spatuzza e i fratelli Graviano negli atti che riguardano il confronto tra lui e Filippo Graviano del 20 agosto 2009 che ho qui riportato brevemente perché mi pare davvero abbia le caratteristiche per rassegnare a voi quelle che sono le regole di ingaggio se vogliamo comprendere fino in fondo che rapporto ha avuto Spatuzza con Giuseppe e Filippo Graviano nel corso di quel confronto corte di Assise Caltanissetta Spatuzza si è rivolto al suo interlocutore dicendo quanto segue ho sempre sottolineato Filippo in qualsiasi sede che io voglio bene i fratelli Graviano io voglio rimanere dentro il mio cuore quel senso della famiglia Graviano Michele Graviano Enza Graviano Bene Detto aggiungo io quel senso di rispetto dice Spatuzza sollecitazione rispetto alla quale lo stesso Graviano replica Filippo dicendo non ho mai parlato con ostilità di te Gaspare non ho nulla in contrario alla tua scelta è bene che tu lo sappia tu hai fatto una scelta va bene anche per me la scelta ovviamente era quella di collaborare con la giustizia abbiamo elementi per dire che queste persone hanno un rapporto di confidenza così stretta da poter essere considerata esattamente come dice Gaspare Spatuzza la confidenza che si deve a persone che sono parte di una famiglia e ovviamente anche su questo nulla si dice andiamo oltre non credevo sinceramente che si potesse tornare su quel tipo di riferimento alla Bolivia io non credevo e non lo credo ancora oggi non credo che sia possibile pensare che il paese che avevamo nelle mani è la Bolivia alla luce di quello che ci ha detto Giuseppe Graviano nei suoi interventi del 2020 perché mi pare che Giuseppe Graviano ci abbia spiegato che lui non parlava di nessuna Bolivia ci abbia spiegato che lui nei discorsi che faceva con Adinolfi parlava dell'Italia e di dinamiche politiche di questa nazione rimproverando a una persona ben precisa di non essere stata ai patti volete che vi ripeta un'altra volta il nome di questa persona o lo vuole ripetere Graviano intervenendo nel corso di questo dibattimento per l'ennesima volta ha detto questa persona si chiama Silvio Berlusconi ha detto lui nel corso del suo lunghissimo esame ha detto di aver avuto rapporti con determinati soggetti ha detto di avere delle situazioni aperte con determinati soggetti ha detto che determinati soggetti hanno una serie di problematiche connesse a una quantità di denaro che sarebbe stata consegnata molti anni fa per investimenti che poi non sono tornati indietro tant'è vero che vi ha parlato dell'esistenza di una carta segreta che attesterebbe tutto questo parlando di incontri tra lui l'atitante e queste persone e ancora qui io sento dire che il paese è nelle mani è la Bolivia e ancora io sento dire che quello che racconta Spatuzza per fare un favore probabilmente a questo punto alla procura della Repubblica di Reggio Calabria introducendo il riferimento ai calabresi non è vero perché in altre sedi non lo avrebbe detto ma guardate che non lo ha detto a noi non lo ha detto a me vi ho ricordato l'episodio relativo al giudizio a carico di Villani consolato per ribadire per l'ennesima volta che nelle fasi finali del giudizio di appello a carico di Villani consolato era stata integrata l'istruttoria partendo da un articolo stampa da cui risultava se non ricordo male del Corriere della Sera da cui risultava che Spatuzza aveva parlato dei calabresi che si erano mossi in altra sede tanto da spingere il difensore di Villani consolato l'avvocato Lorenzo Gatto a chiedere un'integrazione istruttoria sul punto che era avvenuta e in quell'occasione Spatuzza aveva ribadito quello che saperlo quindi che le dichiarazioni di Spatuzza non siano sempre e costantemente sovrapponibili è una garanzia di genuinità nella misura in cui sarebbe invece molto sospetto portare all'attenzione sempre e costantemente anche di giudici diversi quello che è il racconto stereotipato bloccato di colui il quale non aggiunge particolari o non riferisce le sfumature di cui è in grado di parlare quindi quando voi troverete nelle argomentazioni difensive il riferimento alla Bolivia sappiate che Graviano ha già detto che non è così e questo è il migliore riscontro a quello che dice Spatuzza nel racconto dell'incontro all'interno del Bardonei abbiamo il paese nelle mani è riferibile all'Italia e a quelli che sono stati i contatti con i principali protagonisti di quello che sarà Forza Italia a un certo punto l'avvocato Aloisio torna a dire in quale sentenza è certificato il possesso del telefonino su cui tanta parte di istruttori in primo grado è stata svolta in capo al Graviano e allora se questa stessa identica domanda aveva un senso in primo grado adesso ha un po' meno senso intanto perché non può essere più posta così perché adesso una sentenza certamente non definitiva è ancora voglio dire da scrivere nella sua forma finale non c'è ma abbiamo una ricostruzione che è la sentenza su cui ci confrontiamo in questa sede che ci dice che quel telefonino è nel possesso di Giuseppe Graviano due telefonate noi abbiamo voglio tornare per l'ennesima volta su questo specifico tema verso un'utenza intestata Tranchina Fabio e due ricevute dalla medesima utenza impegnando celle siciliana tale circostanza dimostra senza ombra di dubbio la riferibilità Giuseppe Graviano della scheda in questione atteso che come si è visto Tranchina era l'autista di Giuseppe Graviano poi abbiamo una telefonata verso la Lia Giovanni che risulterà essere uno dei fondatori del circolo di Forza Italia di Misilmeri apro e chiudo una parentesi Misilmeri è il paese siciliano tristemente noto per il sequestro terribile del piccolo Giuseppe di Matteo e due ricevute dal predetto tutte effettuate impiegando celle siciliane per quello che rileva a noi soprattutto nell'ambito della ricostruzione che coinvolge Rocco Santo Filippone e le riunioni effettuate in Calabria guarda caso nel mese di dicembre 1993 e cioè quelle immediatamente antecedenti alla seconda convocazione Villani Calabro quando Filippone dice bisogna fare i morti perché fino a quel momento i morti non c'erano stati c'erano stati solo due feriti che cosa ci dicono che si avevano due contatti fra l'utenza del Graviano e quella intestata Bocchiaro Giusto imparentato a Elobianco famiglia mafiosa di Misilmeri 17 12 93 mentre l'utenza del Graviano impegnava una cella o meglio una centrale di commutazione calabrese e dopo pochi minuti impegnava una cella o meglio una centrale di commutazione siciliana tale riferimento io capisco che possa essere particolarmente ostico da affrontare in chiave difensiva ma quello tecnicamente è e non credo che siano stati portati alla vostra attenzione argomenti che possano in qualche modo far emergere che come sostenuto dalle difese quello è un telefono in uso alla fidanzata di Filippo Graviano che ha rapporti telefonici con Bocchiaro Giusto e con la Lia Giovanni chiaramente è chiaro che siamo noi a dover provare però nel momento in cui la prova è di questo tipo e la prova è particolarmente resistente sapete perché perché all'epoca il sistema di gestione della telefonia cellulare non era come oggi che consente la localizzazione di precisione era ancora un sistema analogico e il sistema analogico dell'epoca sapete che caratteristiche aveva che se io in possesso di un telefonino Etax facevo una telefonata da Castrovillari risultavo collocato in Calabria esattamente come se quella telefonata fosse partita da Locri perché la centrale di commutazione era regionale sapete fino a quando fino al primo gennaio 94 il primo colpo di sfortuna che abbiamo vissuto no perché non siamo sfortunati perché incredibilmente pur non potendolo fare attraverso il sistema di gestione dell'epoca della telefonia cellulare noi abbiamo avuto anche qui la fortuna di beccare un soggetto che stava sulla riva dello stretto tant'è vero che un attimo prima acchiappava la Calabria un attimo dopo acchiappava la Sicilia secondo voi perché in che direzione va uno che prima aggancia la Calabria e poi aggancia la Sicilia in che direzione va non è che è prova evidente il fatto che si trovasse in una specifica area geografica da cui si può agganciare Calabria e Sicilia a distanza di pochi minuti e assolutamente prova sì nonostante le macrocelle fossero regionali e quindi ce l'abbiamo proprio qua e ce l'abbiamo proprio qui a contatto con quelle utenze che sono certamente come dicono gli avvocati riferibili alla butitta ma quando mai quando mai questa è la prova della presenza di Graviano Giuseppe in Calabria il 17 dicembre 93 e il pregio della tesi difensiva che non c'è sul telefonino della butitta è tolto direttamente da Graviano perché anche Graviano ci ha dato una grande mano su questo non solo quando ha reagito come ha reagito e abbiamo acquisito la registrazione ex 41 bis che avete in atti dicendo al nipote ricordati che quel telefono ce l'aveva tua mamma che dici zio ricordati che quel telefono ce l'aveva tua mamma hai capito e non era assolutamente un ricordati ma devi dire a tua mamma che quel telefono non era mia 1 ma anche qui ove non bastasse questo tipo di riferimento noi abbiamo le spontanee dichiarazioni di Graviano del 28 settembre 2018 perché Graviano rende spontanee dichiarazioni il 28 dicembre 2018 perché Graviano sa perfettamente di dover dire qualcosa in quanto la tesi che quel telefono sia della cognata non sta né in cielo né in terra e sapete perché voglio dire non sta né in cielo né in terra perché ascoltato il colonnello Brancadoro il colonnello Brancadoro dice che il giorno in cui i Graviano furono arrestati quel telefonino era nella disponibilità di una coppia non dell'altra la coppia Giuseppe Graviano Rosalia Galdi che c'entra la butita peraltro ve lo immaginate Giuseppe Graviano per quello che è chi affida un telefonino potenzialmente pericolosissimo nelle mani della cognata senza che lui ne abbia il costante e reale controllo in ogni momento ve lo immaginate io non lo immagino e non lo immagino perché non è così e vado ancora avanti 15 basta non basta insinuare ogni volta in primo grado in secondo grado che ci sia una manina che guida il narrato dei collaboratori di giustizia senza fare nomi e cognomi del corpo a cui questa manina noi dobbiamo riferire è perché i collaboratori di giustizia si sono sempre messi d'accordo perché la notorietà dei fatti perché ovviamente la notorietà del personaggio e quindi ce l'hanno tutti con lui ed è facile sparare nei suoi confronti e torniamo al discorso che ho fatto prima e quindi quando voglio dire si processa un soggetto che ha una notorietà giudiziaria di un certo tipo sostanzialmente noi viviamo di acquisizioni inquinate ma dove? Questo è il ruolo del giudice quindi determinati soggetti sono processabili una sola volta seccamente perché da quel momento in poi tutto quello che si acquisisce deve essere sostanzialmente ripulito da inquinamenti più o meno gravi ed è un ritornello questo che sentiamo da sempre che ruota attorno a una tesi difensiva assolutamente legittima ma insostenibile salvo che mi si dica chi è l'autore di queste operazioni Graviano lo sa chi è l'autore di queste operazioni perché se Graviano sa chi è l'autore di queste operazioni siamo assolutamente pronti a confrontarci su tutto subito io sono pronto ad ascoltarlo senza problemi se ha intenzione di dirmi la macchinazione ai suoi danni chi l'ha messa in piedi ma non mi pare che l'abbia detto nel corso delle sue lunghe dichiarazioni in primo grado ha detto esclusivamente approfondite determinate tematiche e capirete tantissime cose io lo ringrazio molto ma purtroppo le nostre capacità ad un certo punto finiscono ma se vuole dire qualcosa di più chiaro siamo pronti ad ascoltarlo altrimenti non si deve più utilizzare questo argomento perché è del tutto fisiologico che le dichiarazioni siano più o meno ricche di particolari a secondo di quello che è l'oggetto del processo ed è tutto normale e questo lo si ricava da migliaia di sentenze che sia così visto che i collaboratori di giustizia rispondono a delle domande non fanno dichiarazioni spontanee ed è evidente che sei in un processo celebrato a Reggio Calabria alla periferia dell'impero si fanno domande sull'andrangheta i collaboratori di giustizia sono portati a fare uno sforzo di memoria sull'andrangheta se invece in altri processi di indrangheta non si parla proprio è altrettanto evidente che i collaboratori di giustizia risponderanno su altro perché se non è così non abbiamo capito niente non vi pare che sia così io in tanti processi che voi avete agli atti ho cercato riferimenti all'andrangheta e non li ho trovati e dove li ho trovati adesso sto arrivando li ho trovati in relazione a quello che è l'apporto dichiarativo assolutamente ritenuto non utilizzabile di Villani e lo giudice e quindi insinuare che Spatuzza sposti alcuni accadimenti dal 93 al 94 e in particolare al gennaio 94 per un motivo politico a mio modo di vedere è inaccettabile ma ancor prima di essere inaccettabile ritengo che tale tesi non abbia alcun pregio per l'evidente ragione che Spatuzza non è che allinea le sue dichiarazioni sul gennaio 94 alle dichiarazioni di altri dice perché sai già di Giuseppe Graviano Aldonei e quindi in via Veneto nel gennaio 94 hanno parlato altri collaboratori sai che faccio mi allineo a queste dichiarazioni così da averne benefici di varia natura no quando Spatuzza afferma quelle circostanze è imbeata solitudine cioè Spatuzza è l'unico che ascolta Giuseppe Graviano dire determinate cose ed è l'unico che dì che sente dire Giuseppe Graviano ci hanno chiesto di non cessare le stragi e quando a Graviano è stato chiesto chi vi ha chiesto di non cessare le stragi lui non ha voluto dirlo ci hanno chiesto di non cessare le stragi anzi ci hanno chiesto di dare un altro colpo sbrighiamoci perché i calabresi si sono mossi quindi a chi si allinea Spatuzza non ho capito a che fine Spatuzza sposta il maggio giugno 93 al gennaio 94 e se non siamo in grado di fare riferimenti specifici su questo argomento non abbiamo elementi per dire che Spatuzza sia affetto da un patologico auto-lesionismo che patologico auto-lesionismo ha Spatuzza sinceramente non comprendo perché mi pare che abbiamo le prove del contrario cioè abbiamo un soggetto che attentamente valutato in tutti i profili connessi al suo apporto dichiarativo dice una serie di cose consapevole di averle dette tardi non si è mai nascosto ecco perché in quella sentenza che richiamavo prima si dice chiaramente che la Suprema Corte ha ampiamente stabilizzato l'orientamento sulle dichiarazioni tardive e che quindi ogni argomento di tipo demolitorio non ha nessun pregio se riferito alle dichiarazioni rese in sede dibattimentali quando si sostiene e si porta la vostra attenzione che l'attentato all'Olimpico doveva consumarsi nella primavera estate 93 si dimenticano totalmente i tabulati telefonici di cui hanno parlato l'ispettore Zannino e Cappotella che ci danno la traccia temporale di una movimentazione che si inserisce nel periodo di cui parla Spatuzza ma i tabulati telefonici a questo punto che sono considerati sempre particolarmente affidabili proprio per la natura dimostrativa di cui sono portatori inalterabile stranamente in questo processo quando si parla di questi argomenti non valgono niente punto 17 l'altro obiettivo delle difese assolutamente legittimo obiettivo e Fabio Tranchina a un certo punto Tranchina parla dell'aggiustamento di alcuni processi ma io non ho trovato però nelle dichiarazioni di Tranchina quello che gli avvocati di Graviano mettono a lui in bocca e cioè che Tranchina abbia detto che con certezza il processo da aggiustare era con del Golden Market Golden Market processo da aggiustare in parte aggiustato proprio a favore di Graviano Benedetto tant'è vero che la signora va da là come si ricorderà andando a riprendere in mano quella parte di istruttoria che riguarda i viaggi a Bova Marina dirà a Tranchina e questo Tranchina ce lo dice Benedetto si aggiusta Giuseppe Filippo Graviano no e così è stato ma anche qui sarà stata una mera coincidenza non vi riporto le dichiarazioni di Tranchina sul punto soprattutto nella parte in cui ma sono chiarissime e facilmente reperibili in sentenza gli viene chiesto di effettuare quelle missioni in Calabria immediatamente dopo essere stato scarcerato vado rapidamente a concludere su quelli che sono ancora due tre argomenti meritevoli di attenzione Villani e lo giudice in realtà ho già discusso di Villani e lo giudice parlando della posizione di Filippone Roccosanto e c'è oggi davvero poco altro da aggiungere su Villani e lo giudice perché quando noi abbiamo discusso di Villani e lo giudice e abbiamo sostenuto la piena attendibilità dichiarativa di Villani e lo giudice nel momento in cui parlavano di determinati incontri di determinati summit fatti alla presenza dei siciliani con specifici riferimenti proprio a Giuseppe Graviano noi l'abbiamo fatto evidenziando una serie di elementi che come avete visto anche parlando di Filippone e Roccosanto sono corroborati anche di altre acquisizioni oggi abbiamo di più rispetto a questo versante e quindi è veramente agevole dire che il narrato di Villani e lo giudice su questo specifico argomento oggi trova conferma non nell'apporto dichiarativo di un soggetto che si allinea perché se ci fosse stato oggi un nuovo dichiarante allineato a quanto già detto da Villani e lo giudice e quindi a quanto già come dire pubblicamente noto saremmo stati probabilmente in presenza di un ulteriore elemento di conferma non proprio non proprio in grado di reggere il peso del condizionamento che ne può derivare qui invece noi siamo in presenza di una conferma al dichiarato di Villani e lo giudice che proviene dall'apporto dichiarativo di un soggetto deceduto che ha parlato delle riunioni con Giuseppe Graviano molti anni prima dell'inizio di qualsivogna investigazione che ha portato a questo processo stavano là le dichiarazioni e come spesso accade noi non eravamo a conoscenza che poi Villani e lo giudice siano stati forzati nella loro ricostruzione sugli specifici temi che riguardano Giuseppe Graviano è inaccettabile che i pubblici ministeri debbano in qualche modo pubblicare un manuale su come hanno condotto male in maniera non consentita il confronto Villani lo giudice perché questo mi è stato riportato negli appunti a me dati è un argomento sul quale io non voglio soffermarmi perché non ho nessun manuale da scrivere come non ho nessun manuale da scrivere su come si pongono le domande suggestive visto che è stato altrettanto detto che il dottore Lombardo fa una serie di domande suggestive che consentono a Nino lo giudice di fornire determinate risposte no non voglio assolutamente soffermarmi su questo e sapete perché non voglio assolutamente soffermarmi? perché il verbale integrale di confronto tra lo giudice e Villani è acquisito agli altri lo potete andare a consultare tanto nella sua trascrizione che nella sua registrazione integralmente disponibile per verificare se quello che dicono i difensori è vero a me risulta che nel corso di quel confronto condotto seguendo quelle che sono le regole di quello specifico atto istruttorio si siano chiariti tutti i contrasti tra lo giudice e il Villani come poi risulterà chiaro dall'esame dibattimentale reso da entrambi al cui contenuto dovete ricollegare l'esito del confronto quindi che si discuta di quello che Villani e lo giudice hanno detto non sul metodo da riversare in un manuale che i pubblici ministeri dovrebbero andare a scrivere sulla ricostruzione fantasiosa davvero poco da dire ed ero seriamente preoccupato dal non aver sentito ancora nel corso del processo di secondo grado che la ricostruzione è fantasiosa o ancora di più sfiora una ricostruzione una impostazione folle un'impostazione folle due morti quattro feriti dichiarazione di tipo confessorio acquisizioni imponenti di fonti dichiarative diverse riscontri di bagna natura integrazioni svolte in sede d'appello ma ovviamente tutto si innesta su un'impostazione folle perché è folle il riferimento all'alta massoneria perché è folle il riferimento all'alta mafia perché è folle il riferimento alla P2 e alle sue propaggini calabresi perché è folle il riferimento all'esistenza di servizi deviati perché è folle il riferimento ad un disegno politico che si innesta in un momento drammatico della storia italiana esattamente come scritto nella sentenza di primo grado è folle vi prego di considerare quando andrete a valutare quanto hanno fatto i giudici della corte d'assise in prima grado che tutto quello che voi leggete in quella sentenza è folle come è assolutamente da non credere il fatto che le ricostruzioni sul vertice sull'incontro sulla riunione del Sayonara sono delle ricostruzioni particolarmente significative in questa sede esattamente come la corte ha ritenuto disponendo l'interruzione della discussione per l'ultima integrazione istruttoria e come particolarmente significativo il fatto che in quelle ricostruzioni sulla riunione del Sayonara perché ho sentito ulteriori richiami all'apporto dichiarativo del collaboratore Franco Pino Franco Pino non abbia detto alcune cose perché effettivamente quello che rileva dalle dichiarazioni di Franco Pino e quello che valorizza il giudice di prime cure è il passaggio che gli avvocati hanno portato alla vostra intenzione attenzione qualche ora fa e cioè che a domanda del difensore Franco Pino ha detto ah sì mi sono ricordato di brusca stranamente però Franco Pino nella sua deposizione ed è la parte che il giudice di primo grado valorizza nel contesto allargato di un apporto dichiarativo che riguarda numerosissimi altri soggetti dice che che siciliani presenti alla unione del Sayonara non ce n'era seccamente lo ribadisce più volte e che la proposta dei siciliani è stata portata da Nino Pesce e Franco Cocotrovato non da brusca seccamente più volte no no dice io siciliani non li ho visti e fa seguire queste sue affermazioni sull'assenza dei siciliani precisando che quella proposta era stata portata ai grandi capi in drangheta che ne avevano discusso in riunioni separate e che erano intervenuti nel corso della riunione del Sayonara per dare una direttiva ti vuoi allineare? bene ciao questa è la direttiva fai quello che ritieni noi siamo un'organizzazione criminale di tipo mafioso con obiettivi di tipo terroristico ma al nostro interno non imponiamo niente a nessuno questo abbiamo deciso e questo faremo e questo hanno fatto ma ovviamente Franco Pino compulsato sul punto parla soltanto di Brusca bene oggi noi sappiamo che la riunione organizzata di Mancuso non riguarda Brusca e lo sappiamo sulla base delle dichiarazioni di Gerardo D'Urso che parla di Giuseppe Graviano non di Brusca e facciamo finta che non ci sia perché ovviamente è molto più facile così e chiudo veramente perché questo è l'ultimo argomento che ho annotato Bruzzese e Girolamo Bruzzese e Girolamo dicono le difese non può assumere la veste di un dichiarante attendibile perché Bruzzese e Girolamo introduce i riferimenti all'incontro nel terreno di Peppe Piccolo in relazione ad un periodo in cui Silvio Berlusconi era obiettivo dell'Andrangheta così vi viene detto nel corso delle ringhe difensive in quanto l'Andrangheta era già impegnata pesantemente nell'esecuzione di quella atroce forma criminale criminale che erano i sequestri di persone assolutamente disumana forma criminale e quindi secondo voi viene detto uno che ha paura di essere sequestrato lui o chi per lui accetta di incontrare i vertici dell'Andrangheta di Renica all'interno dell'appezzamento di terreno riferibile a Peppe Piccolo assolutamente no perché ve lo immaginate un incontro del genere e me lo immagino sì e certamente non ritengo che sia in alcun modo incompatibile con la paura di essere sequestrato a maggior ragione voglio dire perché dovremmo ulteriormente dire che partecipando all'incontro tutto da dimostrare ma certamente non da smentire sulla base di questa argomentazione assolutamente illogica cioè noi dovremmo credere che un soggetto che ha paura di essere sequestrato non può in alcun modo incontrare i vertici dell'andrangheta perché perché temi di essere sequestrati in quel momento ve lo immaginate i vertici dell'andrangheta no? li presenti come ci racconta Bruzzese che invece di discutere di determinate argomentazioni sequestrano uno dei loro obiettivi ma non è il caso ovviamente di fare una riflessione ulteriore e dire ma nella stessa ringa difensiva gli avvocati fanno riferimento ad un contatto tra quell'imprenditore ed altri ambienti mafiosi proprio al fine di interloquire con gli esponenti apicali dell'andrangheta e quindi evitare un sequestro e ma non è lo stesso rischio incontrare quelle persone nella consapevolezza che incontrare esponenti apicali di cosa nostra non credo che sia tranquillizzante se è vero come è vero che quelle organizzazioni criminali sono tra loro legatissime e cioè in altri termini è assolutamente inaccettabile dal punto di vista logico che ci sia stato l'incontro nel terreno di Peppe Piccolo ma è assolutamente accettabile che quello stesso imprenditore abbia incontrato i vertici di cosa nostra per impedire un eventuale sequestro e c'è una fortissima logica effettivamente in questo argomento quindi i soggetti di indrangheta sono particolarmente pericolosi e in grado di eseguire azioni di quel tipo in qualsiasi momento i vertici di cosa nostra no questo è l'argomento per dire che indipendentemente da quello che ha sostenuto il pubblico ministero e cioè che noi purtroppo a distanza di tutti questi anni se non un riscontro logico rispetto ad una serie di argomenti che ho già affrontato non siamo in grado di dire in relazione all'incontro che racconta Bruzzese nel terreno di Peppe Piccolo dovremmo abiticare a questa forma di ricerca perché nessuno che teme di essere sequestrato va a incontrare determinati soggetti questo vi è stato detto e concludo rapidamente sul punto perché mi pare che davvero poco altro ci sia da dire alla fine del giudizio di primo grado un avvocato che non è qui presente che è l'avvocato Sorace è riuscito sì lui a sorprendermi con un argomento finale dicendo che la ricostruzione che ha fatto il pubblico ministero è una ricostruzione solo per intenditore esattamente come quelle opere d'arte che solo alcuni riescono ad apprezzare dicendo il dottore Lombardo ha fatto un'opera che sembra un'opera di fontana un'opera di fontana cioè un quadro bianco tagliato dice io la guardo quest'opera però sinceramente non mi trasmette nulla e mi diverte sottolineare credetemi questo aspetto perché mi diverte sottolinearlo perché proprio somiglia molto allo spazialismo di fontana il lavoro che tutti insieme siamo chiamati a fare proprio quando parliamo di stragi perché fontana con un gesto semplice e violento sfonda la tela e va oltre i confini del campo pittorico e cioè in un'opera del genere che cosa siete chiamati a guardare il bianco o il taglio o siamo chiamati a guardare tanto il bianco che il taglio e se guardiamo il taglio siamo chiamati a limitarci al taglio o dobbiamo vedere quello che c'è dietro il taglio perché è un concetto spaziale vedete che in qualche modo si può riferire ad un processo come quello che stiamo celebrando in questa sede è l'unico modo per andare oltre le ricostruzioni parziali che sono state fatte finora e l'unico modo è quello di cambiare il modo di osservare le cose perché noi in relazione a fatti così gravi siamo chiamati a mutare completamente la capacità di leggere determinati accadimenti ecco perché non ha ragione l'Avvocato Vianelli non ha ragione l'Avvocato Vianelli e l'Avvocato Vianelli sa perfettamente di non avere ragione su questo perché l'Avvocato Vianelli sa perfettamente per quello che ha già fatto nella sua carriera su argomenti molto vicini al tema di prova di questo processo che la ricostruzione che il giudice è chiamato a fare è una ricostruzione che va ben oltre le apparenze è una ricostruzione che facendo buon uso di tutti gli strumenti di cui noi abbiamo disponibilità senza forzatura alcuna perché le regole del processo sono sempre quelle noi siamo chiamati a confrontarci su un tema di prova enormemente più vasto siamo chiamati siamo chiamati a bucare tutto quello che ostacola la visione fino in fondo questo oggi io spero sia emerso spero che sia emerso che la verità non è bidimensionale la verità per forza di cose deve essere guardata in tre dimensioni e quando la verità rimane piatta bidimensionale bisogna avere il coraggio di sfondare la tela per andare oltre quello che appare mettendo insieme pezzi apparentemente distanti che però forniscono una chiave di lettura univoca rispetto a un quadro inquietante che ci consente di rendere visibile attraverso il lavoro che siamo chiamati a fare quello che finora non si è visto vi ringrazio conclusione lo ha fatto già riportandosi sì presidente è chiaro non avendo richiamato le mie conclusioni le ho richiamate al termine della requisitoria integrativa di stamattina d'accordo cinque minuti e poi riprendiamo di stamattina